Grazie innanzitutto per essere qua in questa splendida domenica mattina soleggiata e invece di andare al mare avete scelto di venire qui, lo apprezziamo molto. Io vi faccio subito un invito, so che le retrovie sono piacevoli però siccome non siamo tanti questa mattina se volete venire un po' più vicino facciamo una chiacchierata anche più conviviale. Io vi voglio dare subito il benvenuto a Vincino che si è fatto questo viaggio da Roma di domenica interrompendo il lavoro che sta svolgendo e tra l'altro ci presenterà in anteprima gli esiti del lavoro, del nuovo lavoro che sta conducendo. Questa è l'ultima giornata per l'Inc, come abbiamo già detto durante le prime quattro giornate abbiamo cercato di analizzare il mestiere, la professione di giornalista nel 2013 cercando di vedere quali sono i diversi aspetti in cui si è coinvolti, quindi non solo il lavoro di redazione del giornalista come è stato inteso fino a qualche anno fa, ma diciamo uno spettro un po' più ampio che appunto oggi si completa con la presenza del direttore del male che ci parlerà un po' della sua ultratrentennale esperienza perché Vincino non è semplicemente il direttore del male, è una persona che ci potrà dare degli stimoli, delle suggestioni su quello che significa anche ideare un progetto editoriale, portarlo avanti, relazionarsi con un numero veramente molto grande di interlocutori che vanno dalla tipografia al referente finanziario, ai redattori, agli illustratori, ci potrà parlare a 360 gradi di quello che significa avere un'idea editoriale e portarla in edicola con tutto ciò che comporta nella distribuzione, la promozione, tutti gli aspetti insomma di un progetto legato all'editoria giornalistica. In questo momento l'impegno più importante di Vincino insieme a Vauro è la direzione del male, un magazine che in Italia rappresenta molto perché è il baluardo in effetti della satira che fa sia con intelligenza ma soprattutto anche con molta malizia per certi versi, bastona un po' tutti, destra e sinistra senza essere schierato se non dalla propria parte. Quindi io non mi dilungherei tanto, Vincino ha scritto anche un libro sull'esperienza del male nel corso degli anni che è stato pubblicato da Rizzoli e che a me è piaciuto moltissimo perché oltre ad essere un po' un racconto dell'Italia vista da una prospettiva diversa da quella a cui siamo abituati, è anche un bel volume proprio da tenere in mano con un ottimo editing e tantissime tavole di illustratori, vignettisti e tantissimi articoli che sono stati pubblicati nel corso degli anni. Un volume che io vi consiglio poi di andare a trovare e di cui parleremo comunque questa mattina perché è veramente un pezzo di storia d'Italia visto con un'altra ottica. Quindi io darei subito la parola a Vincino perché la mattinata vuole essere anche molto dinamica, quindi ci sarà una parte di racconto e di seminario che terrà il direttore, però è chiaro che l'interazione anche con il pubblico farà piacere e quindi cerchiamo di renderla una bella chiacchierata oltre che una lezione. Quindi cedo la parola a Vincino. Buongiorno, partiamo da tanto tempo fa. Questo qua che vedete alla parete è un progetto di un numero zero che abbiamo preparato, di un mensile che abbiamo finito di preparare la settimana scorsa e che martedì sarà presentato agli editori. Praticamente gli editori ancora non lo conoscono. è un numero zero fatto con buona parte mettendo cose già editate, già vecchie, ma per spiegare che tipo di giornale vogliamo fare. Peraltro non si chiama Il Male ma si chiama Bad per tanti motivi. Torniamo ora indietro al 1978 e anche al 77. Il 77 era un anno molto creativo e è un anno in cui d'estate si incontrarono tanti disegnatori, io, Andrea Pazienza, Scozzari, Jacopo Fò, ma tanti disegnatori si trovarono tra Roma, Bologna e Milano e fecero delle riunioni a Bologna e delle riunioni a Milano per che cosa? Per fare un nostro giornale che non era un giornale di satire, era un giornale di disegnatori, un giornale con cui con disegnatori di genere diverso, disegnatori di storie, disegnatori di satire, si incontravano ed eravamo anche le scatole rotte dagli editori, da come ci trattavano gli editori e i giornali a quell'epoca. A quell'epoca c'era Linus, c'era Alter e qualche altra cosa simile, ma non molto di più. Poi naturalmente di questo ciclo di riunioni che sono state anche faticose, io partivo a volte da Palermo per andare a Bologna, ci mettevo un giorno e mezzo in treno, in cui però ci stavano giornate intere a discutere, a chiacchierare, ad insultarci, uscì fuori una cosa molto, che praticamente ci siamo conosciuti. E questa cosa qua risultò molto utile quando, praticamente a fine 77, io ho conosciuto Pino Zack, Pino Zack era un grande disegnatore italiano che negli anni 50, fine degli anni 50-60, erano gli anni molto pesanti, in cui c'era un'atmosfera tra generali, cardinali, massoneria, in cui democrazia cristiana monocolore al governo, in cui era difficilissimo fare satire, lui fu costretto ad andarsene a Parigi. A Parigi andò a lavorare al Canard d'Acenè, il Canard d'Acenè naturalmente per quelli che non lo conoscono è il più antico giornale di satire esistente in Europa, nasce dal 1900 e qualcosa, ed è un giornale fatto da una cooperativa di anarchici che ha mantenuto il suo carattere negli anni. È un giornale che oltre ad avere delle bellissime, oltre ad avere, cioè un giornale di satire, ma è un giornale anche di informazioni, di notizie. Vabbè, Pino Zack va a lavorare al Canard d'Acenè, diventa uno dei soci del Canard d'Acenè praticamente, no? Il Canard d'Acenè è un giornale che vende due, tre, quattrocentomila copie ogni settimana, insomma, torna in Italia e è chiamato da un editore per fare un giornale dei satire d'Italia. Cosa succede? Peraltro torna in Italia e ha chiamato dal editore di un giornale che si chiamava Il Sale, no? Lui cerca a testa sua quelli che i disegnatori che gli piacevano, i scrittori che gli piacevano, ci convoca, io non lo conoscevo prima, ma ha chiamato lui, no? Insieme ad altri e iniziamo a prepararlo, poi prima di andare, prima di finire questa preparazione, l'editore capisce che Pino Zack essendo un autore di satira è ingovernabile, come tutti gli autori di satira praticamente, non è che uno che gli puoi dire, dice beh fammi uscire questo pezzetto qua contro quel ministro, quell'onorevole perché mi serve per quest'altra storia, no? È uno che posta, insomma, non fa lavoretti, no? Allora lo leva e mette un politico come direttore. Pino Zack, eravamo al ristorante, io, Pino Zack, Sergio Saviane, Vauro, Mannelli, Jacopo Fo, e ci racconta questa cosa, dice ragazzi io me ne vado a direttore, però insomma voi continuate, e noi diciamo scusa Pino ma il giornale lo facciamo noi, mica lo fa l'editore, no? Eravamo in un'epoca in cui si poteva sia sognare e sia credere a quello che si sognava, no? Cioè scusami, allora, secondo me il giornale lo facciamo noi e quindi, come dire, noi non vogliamo assolutamente lavorare con quest'editore, lo facciamo uscire da noi. La sera o il pomeriggio o l'indomani io, Pino Zack e Sergio Saviane andiamo dal distributore e diciamo signor distributore se invece del sale ti arriva il male, che ha le stesse lettere, sale e male, cioè il titolo il male è un titolo totalmente casuale, fortunatissimo ma casuale come nella vita delle cose belle, e lui dice non importa, chi mi porta il giornale io gli do l'anticipo, che è la cosa più bella dell'editoria è questa, tu fai il giornale, io lo porti al distributore e il distributore gli dia l'anticipo, soldi contanti, con i soldi contanti paghi la tipografia e paghi gli autori, bene, da questo giochetto qua inizia e facciamo il primo numero del male, poi vabbè c'è un altro caso che in parte è sfortunato e fortunato, al numero 3 o 4 Pino Zack se ne va, per questioni proprio sue interne, per una storia d'amore, e mi lascia il giornale in mano, no? E a questo punto io con gli altri 20 che eravamo là, ci troviamo 20, tutte persone dai 20 ai 30 anni, no io avevo 31 anni in quel momento là, ci troviamo in mano questo gioco qua, e niente, poi abbiamo anche la fortuna che qualche mese dopo casualmente sia il, va bene, al numero 4 del male naturalmente rapiscono Aldo Moro, naturalmente il rapento Aldo Moro, noi siamo qua nell'aula dedicata a lui, e nell'editoria italiana fa la fortuna sia di Repubblica, sia anche nostra in parte, ma di tanti giornali in un certo senso, nella disgrazia di tutta questa cosa qua, ma soprattutto per una cosa, perché interpretare il rapimento di Aldo Moro fuori dall'opinione normale conservatrice, no? Noi lavoravamo per la salvezza di Aldo Moro, no? Mentre il mondo ufficiale diceva non si tratta con le brigate rosse ed era bloccato su questa cosa qua, noi ed altri, come dire, per noi Moro era una persona umana da salvare, come dire, era una persona disperata là in questo posto da salvare, sembravamo cinici ma non l'eravamo affatto, erano più cinici gli altri secondo me, e là facciamo casualmente quando Moro e Moro facciamo il primo falso, il primo falso che è la Repubblica falsa, la Repubblica falsa, perché ed è praticamente il titolo dello Stato si è estinto, no? Questo primo falso che stava dentro una tradizione culturale del 77 sulla falsificazione, su costruire un'altra realtà, però, come dire, avviene anche casualmente, col grafico che non sappiamo cosa fare nel paginone, nella pagina centrale e via, ci porta, guarda, c'è tu volti la Repubblica così, hai perfetto, va bene, basta, e cominciamo. E naturalmente il falso è una delle chiavi del successo del male, questo fatto qua di raccontare noi la realtà come se fossimo, prima di studiare la comunicazione della Repubblica del Corriere e di tutti gli altri giornali, no? E poi di prendercela in mano e di rivoltarla a noi, naturalmente era un periodo in cui le edicole erano vere, esistevano ed erano forti, passava la comunicazione per le edicole, cioè oggi no, oggi le edicole stanno morendo, molte sono morte e la comunicazione passa attraverso il web e internet poco presso presso le edicole. Poi, come dire, di falso in falso, noi poi facciamo un falso, poi l'Italia viene battuta ai mondiali e facciamo il falso della gazzetta, poi facciamo il falso dell'unità, di falso in falso noi acquisivamo pezzi, parte di pubblico diversi e passavamo da 10 a 20 a 30, c'è proprio ogni falso 10, 15, 20 mila copie in più e poi dopo le tenevamo con un gran bel giornale di racconto, di disegni, di fantasia, con un giornale che diventava quasi un pezzo di teatro, c'erano dei 10, 15, 20 attori che ogni settimana si travestivano in un modo e in un altro e con la loro fantasia giocavano, interpretavano la realtà, no? Questa era la differenza del male rispetto ad altri giornali di satria, il male era un giornale teatro, un male era un giornale in cui ci travestivamo e intervenevamo travestiti, io per dire, mi sono truccato più volte da Bettino Craxi, no? con la calotta, con la cosa, quattro ore di trucco, ero quasi perfetto e allora c'era un fotoromanzo di quattro pagine con non so quale furto, quale cosa facessi, no? Poi addirittura una volta c'era uno dei soliti comizi di Craxi all'interno del teatro, il nostro piano era intervenire 10 minuti prima, no? al teatro e allora io vestito da Craxi con tre persone di scorta dietro, tre persone di scorta davanti, entro in questo teatro, solo che poi siamo sempre un po'... e invece arriviamo in contemporanea, non prima, però pure arrivando in contemporanea c'è l'applauso da sotto, da sopra non capivano, no? Perché c'era Craxi che entrava da sotto e Craxi sopra che era entrato da sopra, no? Poi dopo, a un certo punto, al servizio ordine capì e cominciò a cercare di... però fu Craxi molto generoso, dici, no? Lasciate stare, abbiamo capito chi sono, non pestateli, ma non... però come scena fu bellissima praticamente, o sono quando abbiamo premiato Andreotti con un premio di satira di umorismo nero e abbiamo fatto una statua e l'abbiamo messa al pincio con Benigni che l'ha inaugurata e questa statua qua l'andarono a prendere era di marmo, non credevano, credevano che noi facessimo le cose di gesso, come da cinema, d'altro tanto bastava per fare una foto una statua, no? No, l'abbiamo fatta di marmo vero e l'aveva fatto uno scultore che faceva i setterri di Roma per gli americani con il marmo vero, infatti quando l'andarono a prendere caddero in tre poliziotti e la sequestrano e rimase praticamente sei mesi, un anno sequestrata alla questura di Roma. Naturalmente siamo arrivati con il falso di Tognazzi, il capo delle Brigate Rosse, che è una storia bella, che è questa qua, che viene uno da fuori, uno che oggi fa il produttore televisivo, Sandro Parenzo, e ci propone questa cosa qua, lui era amico di Tognazzi, era un momento in cui si cercava il grande vecchio delle Brigate Rosse, ci sai, c'è Tognazzi, lo posso convincere, ci sta, vabbè, stupendo, in due giorni, tre giorni montiamo tre quotidiani che raccontano l'arresto di Tognazzi, il capo delle Brigate Rosse, vendiamo 140-150 mila copie, quel numero là, il numero più alto che abbiamo venduto come male, praticamente. Questo vuol dire due cose, uno, che hai un collettivo in grado di diventare, io ero travestito da carabiniere, in grado di diventare la qualunque, un collettivo di 20 persone, due, un collettivo aperto a fuori, la chiave di un grande giornale è che devi avere tanti collaboratori fuori che ti portano le idee, no? E' una ventina di persone dentro, bravissime, in grado di fare idee loro ma di interpretare quelle di fuori, cioè un posto non chiuso ma aperto, il disastro dei giornali oggi che sono dei posti chiusi, incredibilmente chiusi, è difficilissimo entrare in una redazione, avvicinarsi, non è che 30 anni fa era più semplice, era un po' più aperto ma meno, ma come dire, non difficile come oggi proprio è impossibile, sono dei fortini chiusi quasi impenetrabili dove odiano i collaboratori di fuori, i giornalisti del Corriere dice prima che mi venga levata mezza lira dovete eliminare tutti i collaboratori esterni, che è una cosa di una imbecillità totale senza capire che i collaboratori esterni sono la ricchezza di un giornale, sono il loro, come dire, ma i fatti che gli editorali descrive Michele Ainis che è uno di fuori, descrive Galli, io ero una delle ricchezze del Corriere, io ho lavorato al Corriere dall'87, ottobre dell'87 sino al 13 gennaio di quest'anno, praticamente sono più di 25 anni, 26 anni, l'ottobre dell'87 mi arriva una telefonata e dice lei avrebbe nulla in contrario a lavorare con il Corriere la sera, io guardo intorno e dico ma assolutamente no, ed era il vice direttore del Corriere, il quale? Il Corriere era diretto da Ugo Stille che era un grandissimo giornalista oggi morto che era stato tanti anni in America, durante il fascismo era stato in America, torna in Italia, faceva anche il corrispondente dall'America il Corriere, vuole fare al Corriere una cosa, diventato direttore dopo tutta la storia della P2, vuole fare come i giornali americani, una pagina interna di lettere e con un gran bel disegno dentro, a questo punto chiede, metto questo molto corretto, chiede alla direttrice di rinno, a Fulvia Serra chi si consiglia 5-6 disegnatori e Fulvia Serra tra i 5-6 nomi fa il mio, no, questo dopo l'ho saputo dopo naturalmente, questo è come dire, è un metodo bello secondo me, uno si informa, chiede quali sono le persone migliori secondo lei, una persona a cui ha fiducia, quella di fare dei nomi e di questi nomi ne prende due, tre, poi insomma li ha chiamati quasi tutti, alcuni per altri motivi non ci sono stati, poi ritorniamo al male, mezzo secondo solo, il mare dura 4 anni, finisce nell'82, dura 4 anni perché come tutti i giornali giornalizzati la interpreta un momento, una fase politica, se la sa raccontare bene, la fase politica che abbiamo interpretato noi è la fine del periodo di piombo, la fine del momento qua, Rappimento Moro ed è la fine delle Brigate Rosse in realtà, non è che finisce uno, due, tre anni dopo, va bene, era un momento in cui era difficile manifestare fuori, c'erano i cortei armati che era una cosa incredibile, era un momento molto triste e noi pensiamo che un giornale a colori, che ci sono ancora i colori, si può raccontare in realtà c'è un altro modo di vedere la realtà, ecco qua, e lo dimostriamo, lo facciamo e la gente aveva voglia di avere un altro modo, di trovarsi tra le mani un gioco che gli raccontasse la realtà in un altro modo, no, come dire, non c'era nulla di, cioè ognuno aveva le sue idee politiche, però non c'erano idee politiche prevalenti in un certo senso, assolutamente, non facevamo mai nulla perché politicamente pensavamo che, no, facevamo perché c'era un pensiero di satira, c'era un'idea di satira dietro ogni cosa, un autore di satira secondo me non deve avere, quando privilegia la sua idea politica fa propaganda e la propaganda è un'altra cosa, sì, in parte l'abbiamo anche fatta tutti, però la propaganda è un'altra cosa con la satira, un autore di satira deve, le prime idee che deve prendere in giro, deve avere solo le sue proprio, se le tue idee, se le tue cose sopravvivono al massacro di satira che tu gli fai, ai pensieri cattivi che tu hai, allora va bene, ma, infatti, perché poi un altro dei pericoli dell'autore di satira, il più grave è il moralismo, è un malismo, è un guai a cui anche i migliori vanno a finire, per dire, Michele Serra è stato massacrato dal suo moralismo che gli è venuto fuori, perché quando Michele Serra è stato direttore e fondatore di cuore, un altro gran bel giornale che ha interpretato il momento del craxismo rampante della fine degli anni 80-90, no, poi quando finisce? Finisce nel 94-95 quando con Berlusconi inizia un altro periodo e lui non riesce a capire che inizia un altro periodo, lo vuole interpretare con i mezzi antichi. Il disastro del male qual è? È che tutte le persone che ci hanno partecipato praticamente hanno vissuto un momento bellissimo, un momento in cui parti da zero lire e 10.000 copie, 8.000 copie del primi numeri a 80-90-100.000 copie, è un bello stipendio, ma è un bello stipendio all'epoca, tanto che, che ne so, assumevamo un segretario di redazione e questo faceva una festa, faceva una festa per festeggiare il fatto che era entrato al male, aveva uno stipendio pure lui ed era felice, no, ecco, non, e abbiamo dato, come dire, gestendolo totalmente, infatti questo è poi gestendolo totalmente da noi, infatti l'unico problema è che tra di noi non c'era nessuno che avesse studiato alla bocca, nessuno che ne sapesse niente di economia, minimamente, per cui noi ci aumentavamo gli stipendi per l'alzata di mano, dice, questa settimana, quest'anno abbiamo guadagnato noi, allora mettiamo se, chi è il contrario? Io, ma no, non può essere, 9 e 20 erano favorevoli e via, anche se era un disastro, io lo capivo che era un disastro perché quando il momento è buono è va bene, ma quando il momento diventa diverso, cioè un giornale deve pensare ai vari momenti che ci sono, no, assolutamente, poi naturalmente un po' di esperienza, di economia, di distribuzione di tipografia, là me la sono fatta, me la sono costruita, il male è uno dei, io ho fatto 8 o 9 giornali, 3 o 4 hanno avuto successo, altri 4 un disastro praticamente, ma senza mai capire perché, per come, poi tante volte, cioè non è semplice, ecco, gli altri giornali che ho fatto, allora, un altro è Zut, che l'ho fatto nell'87, Zut era un giornale che ha venduto pure lui, insomma, 60-50 mila copie e me ne sono andato via, mi hanno dimesso da direttore a 30 mila copie, che è un bel numero di copie, non è, cioè, per essere inattivo bastano, dipende, ma insomma, oggi come oggi un giornale con 10 mila copie riusciamo a farlo stare inattivo, ma all'epoca pure, 20 mila copie, 10 mila copie, l'epoca era un momento diverso, perché l'edicolo era un'altra storia rispetto a oggi, questo bisogna sempre, tutti i quotidiani vendevano molto di più, no? E noi siamo legati a questa cosa qua, a quanto vendono gli altri giornali, a quanto vendono gli altri giornali, per dire, noi costavamo, all'epoca il male costava, se volete ricordare, 20 centesimi, sarebbe a dire ora, no? Cioè 500 lire dell'epoca, che sono 25 centesimi di oggi, ed è una cifra ridicola, però all'epoca era una cifra, ed era quanto costava un quotidiano, praticamente, no? Come cosa. E là il Zut aveva un editore, e questo fu il guaio, che avendo un editore, quando, che peraltro era un ragazzo simpatico, carino, ne era una persona brava, soltanto che era molto legato al gruppo L'Espresso, e quando Zut, io mi trovai con Sergio Saviane, Sergio Saviane era più anziano di me di vent'anni, era un maestro della satira e del giornalismo inarrivabile, praticamente, cioè lui è l'unico giornalista che da giornalista va e scopre sette, otto omicidi e fa arrestare i colpevoli, ed erano i delitti del lago di Galleghe, 1940-50, 6-7 persone vengono ammazzate a 3-5 anni di distanza vicino a questo laghetto del Veneto. Lui, collaborando a un settimanale dell'epoca, praticamente racconta e scopre come è successa la cosa, viene denunciato, scopre che in realtà erano i proprietari di un albergo, quelli che si ammazzano le persone, che erano il potere di questo paesino, viene denunciato da questi qua e anni dopo vince il processo e vengono arrestati, praticamente è una cosa che io vorrei studiare a trovare un giornalista di oggi che ha fatto qualcosa di simile, ha rischiato la vita per questa cosa qua. Nel tutto questo era un grandissimo autore di satira, era quello che ha inventato i mezzi busti come parola, questi giornalisti della televisione in cui si vedeva sempre solo la metà, perché la satira ha questa capacità che con una frase di beccarti anche il pensiero di una persona, il modo con cui pensa una persona, il mezzo busto è proprio una cosa quasi morale, c'è proprio una definizione, è come un qua qua qua, un mezzo busto. E lui ogni settimana faceva una rubrica di satira sulla televisione, sull'Espresso e alla Rai la gente era disperata, aspettava disperata quando usciva, perché se c'era lui nominato, cosato, lo sfottevano tutti, aveva molto seguito, aveva molta forza e questo è quando la satira è forte, ha molto seguito, ha molta forza, come dire, non assolutamente. Io ho avuto la fortuna di averlo, infatti lui c'era il giorno con cui, con Pino Zacca, andammo a cercare il distributore, lui era con me e lui era con noi tutto il tempo, per noi del male, noi eravamo dei ragazzi a cui gli mancava la mamma, no, e lui veniva e ci correggeva le virgole, praticamente era un giornale nostro fatto un po' da grammaticati, anche se c'era gente bravissima a scrivere, lui aveva quest'aria qua, no, lui era quello che non voleva soldi, in un certo senso, eravamo una fatica noi a doveri gridare. Con Sergio Saviane, chiuso il male, prima di Zut, un giorno viene e dice guarda, all'Espresso gli piacerebbe fare un supplemento di satira fatto da noi due, no, cioè vabbè ce lo facciamo in cucina, d'accordo, e si chiamava, uscimmo con un numero solo, il clandestino di Saviane e Vincino, ed era un altro giornale, era formato un po' l'Espresso doppio, praticamente, l'Espresso doppio, otto pagine, coloratissimo, messicano quasi, io mi ricordo una riunione col consiglio amministrazione dell'Espresso, caracciolo, cosa, gente d'alto livello, l'Espresso in quel momento era una macchina da soldi pazzesca, non so che se faceva 800-900 milioni alla settimana solo di pubblicità, no, era una cosa, erano riunite in questo tavolo del consiglio amministrazione, io e Saviane, allora facciamo questo d'accordo, preparate questo primo numero, da che servizio si fa, sì sì, noi avete bisogno, ci dicono là naturalmente, non abbiamo bisogno di soldi, dice Saviane, io gli do un calcio sotto perché, come dire, lui lavorava, io no, non è che, cioè loro ti offrono i soldi e tu, vabbè, come dire, vabbè, io non abbiamo bisogno di soldi, d'accordo, facciamo il primo numero, che succede? Di notte, alle tre di notte, mi chiama, cioè sai, siamo qua in tipografia, tutto fermo, c'è il direttore dell'Espresso, c'è Caracciolo, c'è cose, c'è perché, sai, c'è un disegno che, arrivo là in tipografia e c'era una vignetta su viaggi. Ora, era un momento in cui era uscito, stiamo parlando dell'84, 85, era uscito una cosa che c'era uno scandalo di fondineri di Svizzera e della Rizzoli, tra i fondineri di Svizzera e della Rizzoli c'erano anche stati dei pagamenti per Biaggi, tra gli altri 20 nomi, e io ho fatto l'ultimo libretto di Biaggi che era un libretto da segni, era semplicissima la cosa, questo non lo possiamo pubblicare. Rimango così stupito dal fatto di vedere editore e direttore, più Sergio Saviani e io, alle tre di notte in questa tipografia della Tiburtina con le macchine enormi, macchine ferme, così. Leviamo questa vignetta, non me ne frega niente per quello stronzo là, vaffanculo, via. Leviamo questa vignetta, esce questo numero, naturalmente il numero è unico, figlio di madre vedova, non uscì altro, ma praticamente dove uscire per un anno, è uscito un numero solo, che hanno ormai pochissimi collezionisti, è un ricordo bellissimo perché è un numero bellissimo, naturalmente con Andrea Pazienza, con Angese, con Perini, con quella che era sino a Zut, fare un giornale con Andrea Pazienza, con Angese, è una cosa meravigliosa perché qualsiasi cosa hai, ti trovi, è come fare un film con dei grandissimi attori capaci di, non hai bisogno di dirgli niente, loro vanno da soli, no, assolutamente, non, e tu sei uno insieme agli altri, meravigliosi che in cui anche il rimbalzo di idee è una cosa stupenda. E Zut è l'ultimo giornale che faccio, peraltro Zut è la testata, Zut è disegnata da Andrea Tamburini, pochi mesi prima che morisse, no, è un Zut così, molto, Andrea ha fatto delle cose bellissime sul Zut, proprio delle cose che sembrano totalmente senza senso, c'è l'ultimo numero diretto da me che era lui, ha fatto due fotoromanzi, assolutamente bellissimi, tutte e due. Che succede? No, perché finisce Zut? Zut finisce perché naturalmente un fotografo becca all'aeroporto Genio Scaffari con l'amante che si nasconde e va dietro. Porta le foto a Zut, guardiamo, c'è chi è questa? E Sergio Saviani, ah ma questa è la cosa, chi è la? C'è questa è la seconda moglie, come la seconda moglie? Sì, lui ha due famiglie, e il poveretto è costretto a fare due capodanni e due natalime, va da una parte all'altra, dice ma come non lo sa nessuno, non lo sa nessuno, dice la cosa, e allora lo pubblichiamo naturalmente, lo pubblichiamo con Sergio Saviani che scrive le cose, era amico di Scaffari, ma scrive le cose pesantissime, no? La settimana dopo viene l'editore e dice guardate, è un disastro per me, no? La Repubblica, aveva un cambio di pubblicità, crolla immediatamente, cioè proprio viene annullato totalmente, e poi dice non posso, questa cosa qua, Scaffari è arrabbiatissimo, e come dire, sono stato inopportuni, non lo so, io però, siccome questo editore a cui voglio bene era anche parente degli annieri, io dico se devo rispettare tutti gli amici e i parenti tuoi non lo posso fare un giornale di Satire, assolutamente, no? Per cui, in contemporanea si sposa con un mio vice direttore che mi voleva pugnalare alle spalle, e allora finisce là, praticamente, cioè l'editore e mi licenzia, no? E questo qua, e poi naturalmente continuano per altri quattro numeri, da trentamila passano a quattromila copie e via, perché poi ci vuole anche una certa bravura, cioè c'è un certo non so che, cioè molti di quelli del male sono in grado di dirigere il giornale di Satire, ma non tutti, ecco, Sergio Angese lo era in grado, vabbè, Tamburini era un genio, aveva inventato Figgidera, aveva inventato tante cose, insomma, e altri di meno, no? Come cosa? Poi, poi viene, allora, prima viene Tango, dopo, prima di Zut e in contemporanea di Zut viene Tango, che è Tango fatto da Silvio Staino, un bel giornale, supplemento dell'unità, ci collaboro pure, ho proprio un, come dire, è un bellissimo rapporto, faccio alcune cose sull'unità incredibili, perché ad esempio intervengo sui funerali di quando muore Guttuso, quando muore Guttuso è un disastro, perché muore uno dei pilastri del PC, praticamente, muore e si converte all'ultimo, no? E all'ultimo c'è, sul letto di morte ci va Andreotti, ci va il Monsignor Coso, la sua fidanzata amante non viene fatta entrare, la Contessa Marzotto, succede dei disastri proprio di ogni genere, no? E io li racconto tutti, sull'unità, e all'unità si incazzano, perché non, all'unità si incazzavano su quasi ogni cosa, bisogna dire, no? Io ricordo un gran casino su Togliatti, quando io racconto in una storia che Togliatti aveva ammazzato metà del partito comunista polacco, quando lui era a Mosca, cioè non si può dire, però non si può dire, la verità storica, non è che lui era al coso, altri problemi. Tango, io gli dico, guarda, Tango deve uscire fuori proprio, sai perché? Perché è dentro un'unità, e c'è un sacco di gente che gli piacerebbe, ma proprio c'è il rifiuto di comprare l'unità, non lo può, se esce fuori funziona. Sergio Staino fa film e lascia prima praticamente, no? Questa cosa qua, non va fuori, ecco. Un anno dopo, due anni dopo, arriva Michele, fanno cuore, all'unità capiscono, chiamano Michele Serra, fanno cuore, cuore naturalmente è un progetto completamente diverso, ma molto bello, lui partece pure io a questo progetto qua, cuore esce dall'unità, ha questo coraggio qua, esce dall'unità e naturalmente passa da 40, 30, 40, 50 mila copri dentro l'unità a 120, 130 fuori, cioè ha proprio un, fiorisce, diventa una cosa, quel giornalino verde, lo vedevi in aereo in mano a tutti praticamente, no? Ha un successo enorme perché riesce a individuare tanti filoni nuovi, riesce a raccontare questo mondo rampantissimo, no? Dove con tante rubiche stanno iniziando i telefonini, cioè inizia l'epoca dei telefonini, no? È un mondo diverso da quello di metà degli anni Ottanta, è un altro mondo, è un'altra epoca, la racconta bene, poi però quando quest'epoca finisce, finisce la sua funzione, non riesce, poi Michele sera dirigere un giornale di Satira è faticosissimo, ed è esattamente, allora, tra io che disegno e io che dirigo sono due persone totalmente diverse che si odiano tra i loro, perché io che disegno devo parlare e rendere conto a 20, 30, 40 disegnatori e scrittori fuori, no? E cercare di far uscire le cose migliori da ognuno. Nel tutto questo il giornale di Satira è un tavolo intorno al quale ci stanno 10, 15, 20 persone. Questo qua è la cosa che mi racconta Pino Zacche la prima volta quando mi chiama a Milano, ritorniamo indietro, faccio un po' avanti e indietro, nel 77 per il sale, perché per il sale lui fa tre numeri, no? E il presidente dice, guarda, il giornale non è la stanza del direttore, la stanza del caporedattore, la stanza del desk, la stanza del coso, no, il giornale di Satira è un tavolo intorno al quale ognuno dice le stronzatevi vengono in testa e via, e poi da questo tempesta di idee uscirà fuori qualcosa, se siete intelligenti e se siete bravi naturalmente, no? è così è, è così è, secondo me, io sono ancora convinto di questo, è un tavolo grande e poi con un enorme tavolo fuori, no? Assolutamente come cosa. Allora, dirigere un giornale è faticosissimo perché devi ammazzare te autore, devi metterti in un angolino, no? Completamente. E devi pensare, parlare, maggior parte dei segnalatori sono anche permalosi, gli scrittori non ne parliamo, no? Per cui non è facile mettere d'accordo, mediare, e da tutto questo qua tirare fuori ogni volta le idee migliori, no? Ecco, però, come dire, quando ci riesci è una cosa, è una grande soddisfazione, assolutamente, è bellissimo, perché poi è una cosa che ti coinvolge completamente, noi al male entravamo il giovedì ed uscivamo il martedì, praticamente. La domenica era il giorno più bello, perché sempre dentro il giornale, che poi la domenica, quando noi stampavamo è lunedì sera o il martedì mattina. La domenica era il giorno in cui si chiudeva, praticamente, si doveva definire tutte le parti. Io mi ricordo che io arrivavo al male alla chiusura, domenica pomeriggio, senza metà giornale fatto, c'era come non c'è la copertura, però ero convinto che avendo intorno a me tutte quelle persone, alcune ve le ho raccontate, altre di più intorno, qualche idea meravigliosa sarebbe uscita fuori, ed usciva praticamente sempre qualche idea bellissima fuori. Assolutamente. Michele si stanca di fare il direttore di cuore, l'editore che era uno che oggi fa il direttore editoriale di Vanity Fair, della Conde Nast, era uno bravo, non è che assolutamente, però non pensava che un giornale di satira lo deve dirigere un autore di satira, secondo me è fondamentale, e chiama un giornalista, pure lui bravo, ma non era un autore di satira, qual è la differenza? Un giornalista, uno che ha fatto 20, 30 anni, 10 anni, 3, dentro un giornale, è uno anche abituato a mediazioni, al fatto che questa cosa non si può dire troviamo un'altra, troviamo una mediazione. Un autore di satira è uno che sa che le mediazioni a volte sono un disastro, ammazzano le idee buone, perché se un'idea è bellissima, è inutile per cercare la mediazione, viene fuori una stupidaggine, anzi più bella è, quando tu racconti una cosa e vedi che gli altri ridono, automaticamente ridono perché è proprio bella la cosa, basta che non ci puoi fare niente, va bene così, è inutile e poi cerchi di dirle un altro modo di mediare, dentro i giornali normali la mediazione e poi i capi redattori, i capi servizi sono gli assassini delle idee in generale, gli assassini delle idee dei giovani collaboratori, dei giovani giornalisti, che poi dopo per arrivare sino al vice direttore, al direttore dove proprio là è un massacro totale, e quindi un giornale di satira ha bisogno di un autore di satira, un autore di satira bravo e capace di mediare la realtà con le migliori idee che vengono fuori, anche se queste vengono da una persona che cammina per la strada e sale in quel momento e teleporta, ma quando mai in un giornale c'è una redazione, arriva una fuori e ti porta un'idea e questa viene presa e diventa l'idea centro del giornale, no, non succede mai, in generale non lo fanno entrare nella sala delle riunioni, quasi nessuno è mai riuscito a entrare da vivo nella sala delle riunioni di nessun giornale, Repubblica, Corriere, nessun giornale praticamente, no, il giornale di satira deve avere questo, deve riuscire a fare questo, perché questa è la sua differente, da questo anche la sua vita non lunghissima, cioè qua in Italia no, perché in Francia sopravvivono a lungo, cioè noi in Italia no, non siamo mai riusciti, io me ne sono fatto una ragione, perché più è bello, più è comune, dura un periodo, dura il tempo che capisce la storia, cioè non si trasforma in istituzione, però come mi piacerebbe anche un giornale che durasse un'antenne, non è che io sono contrario, nella storia ho capito questo, che sinora non si è trasformato in istituzione mai, come cosa. Poi finisce Cuori con il ritorno di, allora, primo Berlusconi, poi viene Moro, poi no, viene Moro, viene Prodi, viene Prodi e il direttore di Cuori cosa fa? Con Prodi, governo Prodi, continua a sparare su Berlusconi, dice che è bello questo governo Prodi, non puoi fare così, un direttore non c'è una da un po' e dirà che è bello questo governo, cioè non è nella sua natura, nella sua natura e fa schifo anche questo governo Prodi, d'altro canto il governo Prodi cosa va tantissime cose dentro, non è un propagandista, no, il governo Berlusconi è la schifezza del mondo, no, Berlusconi anche all'opposizione ha la schifezza del mondo, però il governo Prodi pure lui ha 3933 difetti e di fatti è un governo che tassa al massacro per, imbroglia le carte per entrare in Europa, cosa che scopriremo dopo, no, noi dall'entrata in Europa del 96 a oggi, cioè un bilancio vero non l'abbiamo mai fatto, la regioneria di Stato, l'organo ufficiale non ha mai punzonato un bilancio vero da quell'epoca là, forse anche da prima, no, praticamente, per cui, cioè come dire, facesse una legge rigida sul falso in bilancio vera, noi avremmo mezza uffici, ministeri e cose in galera, prima degli altri insieme agli altri, per dirci la verità come sta, e naturalmente il governo Prodi, che aveva pieni di problemi, aveva un assassino dentro che era D'Alema, finisce subito, finisce dopo poco, no, finisce dopo poco, e poi iniziano la serie di governi D'Alema 1, D'Alema 2, con dentro pure i fascisti, con Cossiga, con quell'altro là di Ceppaloni, sino a quando, vabbè, sino a quando c'è il governo Amato, quella agonia del centrosinistra che parte dal 96-97 e dura sino al 2001, dove presentano, cioè avendo avuto come premier Prodi, D'Alema 1, D'Alema 2, Amato, loro presentano chi? Rutelli, ma scusi, ma che c'entra, c'è no, c'è no, mettevo Rutelli, c'è venuto in testa Rutelli, tanto va a perdere lui con Berlusconi, tanto siamo sicuri che perdiamo e va a perdere, naturalmente se fosse andato o D'Alema o Prodi sarebbe andato un risultato un po' diverso, non 51-0, 61-0 come fu in Sicilia, non con quella cosa là, ma insomma un poco meglio sarebbe andato, no. Altro giornale che cosa succede? Io faccio un giornale che si chiama Il Clandestino, questa volta lo faccio, io con Sergio Salviani mettiamo i soldi noi due, un disastro praticamente, mettiamo, cioè rimango per quattro anni a pagare i debiti di questo giornale qua, io e Sergio Salviani, poi facciamo Boxer con Vauro e con Vauro e inizia bene perché inizia come supplemento del manifesto, all'inizio va bene, non è che cioè va bene, va bene nel senso che fa vendere 3.000 copie in più al manifesto, però sempre dentro il manifesto c'è il guaio di tutti i supplementi che stanno dentro quel giornale là per cui il manifesto è un giornale che per tanta gente è impossibile da comprare, ecco qua. Quando il manifesto è in crisi la prima cosa che fa è ci manda via, buongiorno e buonasera come fanno tutti gli editori normalmente, no? Proviamo a resistere da soli per tre mesi, quattro mesi, facciamo anche un bel numero, qualche bel numero, però non sopravviviamo proprio perché non eravamo attrezzati. Poi inizia un periodo di lunghe trattative, io e Vauro e Perini stiamo sei mesi a pressa un editore, riunioni, 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 poi al momento in cui dovevamo firmare e lui doveva mettere i soldi scompare, cosa che proprio totalmente, ho mai visto nulla di simile, uno con cui mi sentivo un giorno sì, un giorno no, ero andato sette volte in albergo a trovarlo, non c'è più, non esiste più, non risponde più al telefono, via. E vabbè, e là niente, facciamo necessità virtù, sino a quando? Sino a poco fa, praticamente, sino a due anni fa, quando appunto due tra i proprietari del fatto, Vauro li circuisce e con loro facciamo il male di Vauro e Vincino. Perché di Vauro e Vincino? Perché era un altro male, era un altro progetto, era un'altra cosa, non era quello di non volevo fare una cosa archeologica, 30 anni sono tanti e non è che sono pochi, per cui è proprio totalmente un altro periodo storico e lo facciamo di più o meno di questo formato qua, questo formato qua, 50 pagine, carta bella, però è un altro meccanismo in grossa parte, con tanti autori bravi, devo dire il primo numero va bene, i primi numeri vanno bene, vendiamo 50-60 mila copie, andiamo abbastanza bene, abbiamo poi dopo, l'anno dopo, dura un anno e qualcosa, dura sino a pochi mesi fa, praticamente l'ultimo numero vero esce a fine novembre, inizio dicembre e poi non usciamo, siamo in stand by, stiamo preparando il numero zero che è questo che vedete dietro, succede la storia del Papa, allora si riuniscono dentro, dico ragazzi scusate una cosa, chiamo l'editore, questi sono riuniti dentro, perché non mettiamo in preallarme tutti i nostri disegnatori, c'è stato attenti al comignolo del Vaticano, appena c'è la fumata bianca, via, cominciate a disegnare e facciamo un numero subito a caldo sull'elezione del Papa, riesco a cominciare l'editore, facciamo un numero di 85 pagine, non è un giornale nuovo, è un bel giornale, io credo moltissimo nel disegno, io credo che il disegno sia lo strumento di racconto migliore e più antico che ci sia, io una volta avevo fatto un concorso in internet che si chiamava La Caverna, perché i primi giornali venivano disegnati sulle caverne, apparentemente uno dei primi modi con cui gli uomini raccontavano come è andata la caccia, quella alle minne grandi e cose, nelle caverne disegnavano queste cose qua, ed è il primo racconto, il primo giornale, l'abbiamo fatto noi disegnatori, poi dopo non parliamo degli egizi che raccontavano e disegnavano cose meravigliose, tutto, erano proprio, madonna mia, andate a vedere i geroglifici, delle cose stupende, meravigliose, ed è quello il linguaggio tutto internet, è tutto il linguaggio di segni, di simboli, di una modernità incredibile, secondo me. Poi per arrivare naturalmente alla grande arte del Cinquecento, del Cinquecento, io mi considero alla pari con Picasso, Raffaello, tutti io e i miei amici, no, io mi chiamo a un certo punto come se fosse stata una corrente di persone che sporcavano a colori i giornali, io, André Pazienza, Perini, Angese e tanti altri, che peraltro io, Pazienza, Angese e Jacopo Uffo, abbiamo fatto pure una volta un giornaletto tutto nostro bellissimo che si chiamava Avai, che sono le nostre iniziali, Andrea, Incino, Angese e Jacopo, Avai, ed usciva, formato grande black, non so se vi dice qualcosa, cioè formato piccolo ed è orizzontale, no, che era un formato con cui negli anni Cinquanta uscivano i fumetti, tra cui il grande black, capitano Michi, quelle cose con cui siamo cresciuti noi ragazzi antichi, e usciva come supplemento a Linus, dentro Linus, no? La cosa bella è che, questo è inventato da Sergio Angese, che aveva trovato un'agenzia di viaggi con la quale aveva fatto un accordo, ogni mese tu dai un viaggio a un disegnatore nostro, il disegnatore nostro va in viaggio, disegna il racconto e poi questo racconto va nel tuo giornale dell'agenzia di viaggi, stupendo, perfetto, io sono andato alle Seychelles, sono andato sull'Achille Lauro, no, la vita mia non è come dire, non è che nell'Achille Lauro, fa una crociata nell'Achille Lauro, pazzesco se uno ci pensa, Andrea Presenza in Sudamerica, come si chiama, in Brasile, fece un racconto, come si chiama il fiume? Il fiume è quello del Brasile, il rio della Marcia, il rio della Marcia, perfetto, fece un racconto bellissimo, e come dico, ognuno di noi ha fatto due, tre, quattro viaggi e uscì per un anno è qualcosa, ma è una cosa meravigliosa, stupenda questa cosa qua, è un incontro felicissimo proprio, perché con pochi soldi, questo perché? No, no, era una cosa in mezzo come... Allora, io vorrei, secondo me, con il giornale questo qua, questo numero zero, c'è qualcosa di questo che vogliamo fare, noi vogliamo raccontare gli scandali, il mondo, tutto, noi pensiamo che tutto si possa raccontare con il disegno, sia il disegno di racconto, di narrazione, sia il disegno di satira, come dire, c'è una piccola, ma nemmeno tanta, allora io per dire, oggi, in questo periodo qua, vado al Parlamento e seguo il Parlamento, mi piace stare là e disegnare là dentro, è bellissimo, queste stanze alte, grosse, vedere tutta questa gentina là che cammina là, cioè sto al cinema, mi sito su una poltrona, mi metto là, sto due ore al cinema, sono felice, peraltro, il primo, ho fatto anche un libro nell'82, su questa che ha venduto anche, insomma, io in generale vendo 15.000 copie, però insomma, ecco, anche là, sono stato anche sbattuto fuori dal Parlamento, sì, perché ero là, disegnavo là, disegnavo, vado là nell'81, fine 81, vado là per lotta continua, però, allora, a quell'epoca i giornali si facevano con il piombo, no, con la tipografia, il piombo, c'era proprio, c'erano le notarie, delle macchine pazzesche dove sformavano i caratteri col piombo caldo, no, e c'erano dei tavoloni di legno grezzo sopra i quali, allora, io disegnavo dalle 3, 4 del pomeriggio fino alle 6, alla camera, poi prendevo un tassi, continuavo a disegnavo, arrivavo a lotta continua, e avevo un quarto d'ora per finire la mia rubrica e farla fotografare e la mettevano nella pagina di piombo dove c'erano, c'erano dei tipografi enormi, robusti, che tenevano queste pagine tutte piene di piombo, dove mettevano una zeppa di legno e là era il mio disegno, poi levavano la zeppa di legno e veniva il cliché fotografato del mio disegno, della mia cosa, no, e là ho imparato a disegnare praticamente senza la matita, perché non avevo proprio il tempo materiale di fare la matita, sgommare e poi passare a chi, viene di segnare in diretta, che succede? Che là alla camera naturalmente quando tu vai in un posto è tutto diverso da come te l'hanno raccontato, non è che alla camera è un posto dove ogni giorno c'è uno che dice una cosa, oggi l'onorevole cosa ha detto questo, l'onorevole di quell'altra parte ha detto quest'altro e stop, no, è un posto dove migliaia di persone parlano, raccontano, fanno, e a capire qual è che ha detto la cosa giusta, è difficile, c'è solo dei grandi professionisti, io là non riuscivo mai a capire chi aveva detto la cosa giusta, però vedevo tante cose, anche divertenti, allora vedevo che c'erano, prima c'erano i politici, c'erano i giornalisti, poi c'erano, come dire, non gli agenti, le agenzie, c'erano le agenzie di stampa, le cose, ma c'erano quelli degli affari, come si chiamano, i lobbisti, le lobby, no, c'erano quelli che andavano, parlavano, praticamente sempre in tre, in quattro facevano, chiacchieravano e allora scoprì alcuni meccanismi, no, che allora c'era per esempio un onorevole che fa un'interrogazione, a volte anche dietro un'interrogazione innocente, senza risposta, si scela il marchigegno, perché allora mettiamo, io sono un importatore di banane, facciamo conto, sto raccontando un caso vero, facciamo conto che ogni anno possiamo importare tot banane e siamo quattro importatori che riusciamo a prenderci, a caparrarci, chi il 20, chi il 60% dell'importazione, io sono uno che è il 10, mettiamo e faccio fare un'interrogazione, perché quello là che è il 10 viene fregato da quell'altro che ha il 40, che è un grande imbroglione e quello da quell'altro, no? E questo fa questa interrogazione così, che sembra innocente, allora il ministro si preoccupa, dice ma stanno a vedere che quello che ha il 40 mi ha dato i soldi, allora chiama quello, dice guarda ti do il 20 a te, no, cioè non ha avuto nessuno, manco una risposta all'interrogazione, però ha avuto il suo effetto, e il suo effetto poi che il lobbista che ha fatto fare l'interrogazione, si prende le sue 5, 10, 20 milioni, la sua parte di questa commessa che è riuscita a ottenere attraverso questa falsa, questa interrogazione è così, costruita di imbroglio, no, peraltro c'è per ora in internet una serie televisiva americana bellissima che si chiama La Casa delle Ca, House of Cards, che è pazzesca, dove ti racconta come in America, che sono sempre più avanzate di noi, queste cose avvengono alla luce del sole in maniera stupenda e ti raccontano tutti i marchigenni dietro il capogruppo del Partito Democratico e i vari lobbisti e la Camera dei rappresentanti di Washington, no, e in Italia è anche peggio, in Italia è sempre peggio di tante cose, solo che però non le raccontano nessuna, per dire c'era uno che era Vittorio Refici, non so se qualcuno di voi ha detto, era uno che lavorava anche per l'arraio, con il cravattino che interveniva, del quale Marenco ha fatto una grande imitazione, il quale sapeva sempre prima quando cadeva un governo e quando aumentava il prezzo della benzina, il Vittorio Refici lo scopro là che faceva una velina che si chiamava la velina orefice, che cos'è una velina? La velina è un foglio di cazzo, tre, quattro pagine dattiloscritte, che vanno a 10, 150 aziende, le quali ognuna di queste aziende la paga 100, 200, 10 milioni per abbonato, e in questa velina praticamente ci sono alcune cose che prima degli altri, siccome lui era amico di Fanfani, era amico di quell'altro, e possedeva 50 pompe di benzina, sapeva sempre il giorno prima, due giorni prima, quando aumentava la benzina, cosa che gli permetteva di fare grandi affari, perché se io so quando aumenta la benzina, metto da parte nelle mie 50 pompe quella col prezzo vecchio e la faccio uscire quando è il prezzo nuovo, e già guadagno tantissimo in questa cosa qua, no, e naturalmente i giornalisti però tutta questa parte dietro dell'associazione stampa parlamentare non la raccontavano mai, perché non è che si, cioè è un salotto buono quello d'altro, io naturalmente che non ero legato a nessuno la racconto, allora che cosa succede che io avevo un permesso che mi facevano per dieci giorni, per quindici giorni, però me lo levo, dice guardi no, è finito il suo permesso, niente da fare, no non glielo diamo più, perché ma lei è pure praticante, allora che cosa succede che io ero amico dei radicali, i radicali allora mi invitano come visitatori, io vado nelle tribune dei visitatori, col mio blocco d'appunti mi metto là a disegnare, naturalmente là sotto vedo la Iotti che era la Presidente della Camera allora, quasi una regina praticamente, era una che aveva un grande potere sia dentro il partito, in quanto come dire, e sia, ma anche un po' di, insomma era molto importante, mi vede là qualcuno, io vedo un commesso che gli dice una cosa, lei dice un'altra, su poi vengono tre commessi dietro a me, dice guardi lei qua non può stare, non può prendere appunti, per favore mi dia il blocco e venga, io dico io non vi do niente assolutamente, mi metto a cavalcioni sul bordo della tribuna, no, cioè a 15 metri sopra, no, ci mi butto, non volevo assolutamente buttarmi, non avevo nessuna intenzione, sotto i radicali, il senacone dice ecco là un giornalista democratico sta per essere sbattuto fuori, i comunisti si incazzano di questo, è uno stronzo amico vostro, e si picchiano, tra comunisti e radicali, cioè iniziano i comunisti, no, si picchiano, praticamente allora vedo l'aiotti che diventa in scampanella e scioglie la seduta, no, scioglie la seduta, viene un radicale là dietro, blocca i commessi, mi nomina sul posto loro addetto stampa, per cui vinco io praticamente, no, una delle cose che dice sai, era un periodo in cui le telecamere non erano ammesse, io dico questa non è una telecamera, per cui con questo riesco a vincere la cosa, e sto là un anno praticamente, no, poi uso quel telecamere, poi naturalmente dopo un anno i radicali hanno bisogno di un addetto stampa veri, non è che, però io continuo ad entrare con quel testino per tre anni, no, sino a quando non compare nel gabbiotto della camera la mia foto, il testino è scaduto da due anni, perfetto appena, infatti non lo sapevo, vado, me lo strappano e via, non entro più per dieci anni, sino a quando viene Violante, presidente della camera, dove l'ha, come inviato di cuore, tento di rientrare, e là c'è una frase terribile del suo addetto stampa che dice, cioè noi non possiamo fare entrare, lei non è giornalista, è pubblicista, cioè mica possiamo fare entrare il pubblicista che rocca cannuccia, mi fa così, mi starei spregiativa, avevo già fatto un libro e cose, non mi avevo fatto diretto giornalista, avevo fatto la qualunque, no, vabbè, oh, vado a fare l'esame da giornalista, cioè no, alla terza, perché io l'avevo già fatto, io da direttore di cuore del male, ero anche iscritto, ho fatto il praticantato, no, da direttore, e avevo fatto l'esame, solo che l'esame eravamo, c'era cento giorni, la domanda era cento giorni del governo Spadolini, no, che bello che è, faccio tutti i cento giorni, disegno tutti i cento giorni del governo Spadolini, no, e ripresento, dice, ah, questo è disegnato, si vede, dice, io faccio lavoro così, no, è riconoscibile, perché deve essere anonimo il pezzo che i giornalisti fanno, se qualcuno ne vuoi ha superato l'esame, deve essere anonimo, non può essere riconoscibile, sì, ma io lavoro, c'è, questo è il mio lavoro, no, lo faccia come fotografo o come grafico, c'è, guardi che io non faccio né fotografo, no, con tutto il rispetto, anzi, amo moltissimo uno dei più grandi fotografi, amico mio, Tano D'Amico, amo il mestiere della fotografia moltissimo, amo moltissimo i mestieri grafici, assolutamente, però non è il mio lavoro, per cui altre due volte vengo bocciato così, perché disegno, poi per rientrare alla camera scrivo veramente, lo faccio con grande sofferenza, scrivo due stronzate e via, e riesco a, infatti oggi quando vado, vado perché sono professionista e tutto, assolutamente, però è una vergogna non è che, è una vergogna soprattutto perché, se nei giornali dell'Ottocento ci siamo noi disegnatori, c'è il disegno in prima pagina, in molti dei giornali, le più importanti, proprio anche perché non c'erano i meccanismi per fare le foto bene, per cui il disegno era la cosa che veniva meglio, no, noi siamo, da quando escono i primi giornali, fine Settecento, siamo là, sulla, proprio raccontiamo il mondo da là, assolutamente, ci dovrebbe essere una parte del, cioè l'ordine è un disastro, è una vergogna nazionale che c'è solo in Italia, fortunatamente non c'è altro, però, come dire, se fosse una cosa seria, ci dovrebbe essere una parte solo per noi, autori disegnatori, noi che raccontiamo il mondo con il disegno, no, non c'è, naturalmente ci considerano come, c'era un periodo in cui ci consideravano tanto, evidentemente tra gli anni, a quando mi prendo dal Corriere, sino al 4-5 anni fa, no, io ho pubblicato, c'era un periodo, ogni anno pubblicavo migliaia di disegni sul Corriere, non è caro, ho pubblicato, non so, 10.000 disegni sul Corriere, sono l'autore che ha pubblicato di più, ma no per cosa, perché ogni tanto c'erano tre disegni sul Corriere, un altro, otto disegni, tre, due, uno, un numero di disegni in mane, no, il mio sogno è Picasso, che morì a 90 anni faceva, non so, 40-50 disegni al giorno, assolutamente, non erano, prima proprio, uno disegna come pensa, come racconta, e più il racconto è vivo, è veloce, più anche a volte non lo capisci tu stesso, io a volte dico, che vuol dire, poi un altro è bellissimo, guarda, può essere, non lo so, cioè non è il bello del pensiero, tante volte tu pensi una cosa con cui non sei d'accordo, che ti vergogni quasi di pensarlo, no, io vorrei fare un disegno, un giornale pieno di disegni, allora, aspetta, pieno di disegni sia di satira, sia di fantasia, sia di racconto, che io insieme alla Camera dei Deputati io seguo dei processi al Tribunale, il Tribunale è il luogo delle nefandezze peggiori che ci siano in Italia, no, il Tribunale è un posto dove un processo semplice lo fanno in tre, in quattro, in cinque, in sei anni, dove però nello stesso giorno riescono a processare dieci rom e a dagli 14, 15, 18 anni di galera in una mattinata, inizio del processo e sentenza, prima sentenza, poi ci sarà l'appello, però io una volta ho visto una cosa così, a Roma, no, che con, giustamente, qualcuno di questi, le donne che urlavano, avevano ragione, avevano pienamente ragione, no, e sono gli avvocati che dicevano questi pezzenti, sbattiamo, una cosa vergognosa, il razzismo dei tribunali italiani, il modo con cui trattano le persone, il modo con cui la giustizia fa complicate le cose semplici, è il modo con cui, infatti un unico grande merito dei radicali è questo qua, dei radicali dall'epoca di Tortore e da prima hanno pensato alla riforma della giustizia, hanno lottato per la riforma della giustizia, hanno lottato per la divisione delle carriere, che la cosa sa cosa sa, come dire, e, oh, peraltro, io ho iniziato a lavorare al giornale L'Ora di Palermo, nel 71-72, no, era un bellissimo giornale, era un giornale del pomeriggio, era un giornale duro, tosto, antimafia, pieno di gente bellissima, e là mi ricordo che ho fatto due, una volta mi hanno portato al processo della strage di Via Relazio, no? La strage di Via Relazio è una strage che avviene nel 69, mi sembra, o 68-69, 69, credo, un dicembre che da un costruttore mafioso difeso da alcuni mafiosi, arrivano altri mafiosi per ammazzare il mafioso che era là, no? Si sparano e lasciano travestiti, bello, e arrivano travestiti da carabiniere e da guardie di finanze, no? Cioè Tottorriina e gli altri, questo si è saputo tanti anni dopo, vestiti da guardie di finanze e carabiniere, arrivano là, aprono, si mettono a sparare, il mafioso se l'aspettava risponde e viene ammazzato un amico, due del protone di assassini vengono ammazzati, loro vengono ammazzati, un costruttore viene ferito, no? Peraltro c'è uno scampato, questa cosa qua, poi dopo ve la faccio vedere, questa è una voce che arriva tanti anni dopo, io vado a disegnare il processo di Via Relazio, il processo di Via Relazio a quell'epoca, inizio del processo, nel 72, gli imputati erano, nessuno di quelli che aveva veramente poi dopo partecipato c'era, c'erano 5, 6, 7 sconosciuti, piccoli, malavitosi di Palermo, messi là in mezzo, no? Che sembravano, non si sa perché, i veri colpevoli, e io là avevo paura a disegnare questi qua, no? Perché c'erano i familiari che urlavano, i magistrati, e questi qua, dalle gabbie che pure loro inveivano, no? Io li guardavo, mi ricordo, una notte me lo sognai uno che dalle gabbie inveiva, no? Che mi veniva e mi tagliava le mani, ma no? Cioè proprio perché era un, era anche giovane, non è che, non avevo manco, sì, insomma, avevo 21 anni, penso, non ero tanto, avevo la vostra età. E va bene, e poi dopo vado, dal giornale dell'ora, forse avevo nel mio DNA questa cosa, vado al comune di Palermo, il sindaco era Ciancimino, e capo del partito comunista che faceva il grande oppositore era Occhietto, una scena, una lotta bellissima, tra Ciancimino e Occhietto, no? Io sono cresciuto in una città in cui il sindaco era Ciancimino, il ministro di riferimento era Salvo Lima, e la democrazia cristiana era tutto, praticamente. Questi erano i poteri, no? Per cui io ho una fiducia sul potere totale zero, no? Sempre avuto e continuo ad averla, poi non è che cambiate le persone e le cose. Però, e là vedo che, allora, Ciancimino c'era un bicchiere, Ciancimino va per prendere un bicchiere d'acqua, portarlo in bocca. Quelli del pubblico venuti insieme ai comunisti portati dalla FIGC, urlano, veleno, questo lascia cadere il bicchiere, no? Si impressionano, lascia cadere il bicchiere, c'è questa scena attuale, veleno, paff, c'è giù, paff, butta il bicchiere a terra, no? Rimane così, no? Questi occhi da topo che aveva, no? Va bene, poi naturalmente finisce il giornale dell'ora, vengo a lavorare, mi sposto da Palermo a Roma perché non c'erano i fax, perché non c'era internet, non c'era un altro modo, per disegnare un giornale che stava a Roma, che trasportarsi fisicamente, no? Però, insomma, va bene tutta questa cosa qua. Allora, c'era un periodo, a quell'epoca là i tribunali erano posti dove i giornalisti andavano, oggi come oggi, i giornalisti vanno a seguire uno, due, tre processi, Berlusconi è qualche processo importantissimo, gli altri no, la normalità, mentre prima c'erano dei cronisti proprio di ne, ogni giornale aveva i suoi tre, cinque cronisti di giudiziaria, no? Che andavano, seguivano i processi, avevano una loro opinione, no? Invece oggi no, oggi i giornalisti vanno, si fanno passare dal PM PM, le carte, le cose e le loro opinioni in generale sono simili a quelle del PM o del magistrato che gli è passato le carte, cioè non hanno la loro opinione, non raccontano la loro opinione e questo è drammatico proprio, perché i tribunali sono posti di massacro sociale reale, vero, grandissimo, in cui sia ricchi che sia poveri vengono massacrati, a partire dal Rom che vengono proprio assassinati completamente come cosa. Io vorrei un giornale che racconti tutto e tutto con il disegno, con tutte le varie capacità possibili e immaginabili del disegno. Il disegno che racconta gli scandali, che racconta la politica, che racconti i processi, che racconti tutte le cose, che racconti naturalmente non solo il disegno, anche la fotografia, ma anche la scrittura, non è che poi, come dire, però con un giornale che si sfoglia, come in internet tu sfogli praticamente in parte un giornale in internet o una cosa, velocemente poi entri dove vuoi entrare e ne esci. Il giornale in edicola perché ai disegnatori, a noi piace avere il giornale, a me fosse un disegnatore che non pubblica, mi piacerebbe moltissimo pubblicare, e ho visto la gioia di alcuni che abbiamo pubblicato per la prima volta, questo male era fatto da me e Vauro, che erano due decrepiti, no? D'Agostino dice che io per cano un dinosauro, ed era una battuta molto bella. E insieme a tantissimi giornali disegnatori, alcuni dei quali abbiamo pubblicato noi la prima volta, in un certo senso, no? E il piacere loro a vedere, che bellissimo, cioè il giornale è una cosa che si tiene in mano, un odore, è una cosa che si sfoglia, poi lo so che è una cosa in parte del passato, noi siamo in una fase in mezzo però noi, questa fase qua. Va bene, come introduzione è troppo lunga. No, no, va bene. Allora, se voi avete delle domande potete chiaramente subito, per notarvi, se c'è qualcuno, ok, io ce ne ho già una decina. Grazie. 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 Allora, Satira rivoluzionaria o conservativa? Allora, io ho dimenticato una cosa, che prima del primo numero del male, io ho fatto un supplemento di satira dentro l'ottacontina che si chiamava l'avventurista che era titolo disegnato anche là da Stefano Tamburini che doveva essere un giornale sovversivo praticamente poi là c'era qualcuno che mi diceva ma la satira non è sovversiva secondo me la satira di per sé come il teatro il teatro che è rivoluzionario è reazionario, dipende chi lo fa chi lo pensa sono periodi della storia in nazioni e posti dove il teatro è stato anche come portatore di idee di cose nuovissime e c'è stato periodi delle cose dove è stato invece tutto il contrario c'erano periodi alcuni disegnatori durante la rivoluzione francese erano monarchici, erano conservatori erano di destra erano contro la rivoluzione dipende da quello che è che pensa io personalmente sono di formazione anarchica però a questa domanda qua ho sempre risposto così la satira è come la musica è come un ritmo è una cosa sei tu che la suoni e gli dici se è sovversiva o se invece è reazionaria io mi ricordo una volta quando alle elezioni del 2001 quando uscirono in internet Berlusconi aveva fatto tutti i grandi manifesti e in internet uscirono tutti i manifesti taroccati e mi diceva guarda che bello sono i manifesti taroccati guarda che divertente poi un giorno mi chiamano dal foglio mi dice sai c'è la segreteria di di Berlusconi c'è che c'è che stanno facendo un concorso al manifesto taroccato più bello se vuoi fare parte della giuria ho detto mai fare parte della giuria però la capì che se era Berlusconi stessa a usare il manifesto taroccato più bello in realtà l'intento di questi che vuole essere sovversivo viene utilizzato alla grande dal grande comunicatore che lo rivolta contro no che lo riusa contro per cui vai a vedere che bel gioco c'è là dentro di questa cosa qua no come va a finire un segno che hai fatto tu può essere utilizzato da una parte dall'altra fare o nell'avventurista avevamo messo pure il sistema per rubare l'energia elettrica proprio raccoglio preciso no come per dire nel in un numero del male io avevamo messo noi avevamo stampato allora gli assegni della banca romana un assegno era uscito una cosa che Caltargilone dava i soldi all'ADC evangelisti aveva letto una frase famosa ha detto che c'era Caltargilone diceva a fra che te serve 100 milioni e Caltargilone di prima 100 milioni allora abbiamo messo un assegno in bianco dalla banca romana firmato da Caltargilone per tutte le 80-90 mila copie del giornale poi un giorno a Lucca alla mostra del fumetto questo era successo un mese prima un mese dopo portiamo tra le copie anche questo viene il questore per favore se ritirate quelle copie perché già hanno spacciato dieci assegni nei negozi del centro della banca romana firmati Caltargilone si sono comprati le scarpe le cose sai qua a Lucca quando erano assegni ci crediamo per cui peraltro io avevo trovato ieri mattina avevo trovato ancora un pacco di questi assegni ne volevo portare uno per farlo vedere era bellissimo avanti e dietro perfetto preciso ce l'hai qua qual'era la sua domanda? non lo sappiamo perché non lo sappiamo perché è ancora in edicola in alcune parti è ancora in edicola noi saremmo ne abbiamo fatto 60.000 copie se ne avessimo vendute 20-30.000 saremmo contenti ma il problema è questo le edicole oggi allora ecco qua questo qua è un pezzo un foglio dove ci sono 20 assegni da ritagliare ancora da ritagliare non è un pezzo da collezionista pazzesco come dire infatti io ho scelto da un museo o un ricco collezionista sarei contento vedo fino alla terza giornata la banca romana perché ne eravamo colti la banca romana era la banca del famoso scandalo con cui Giolitti si dovette dimettere credo qualcosa di simile del 1900 e qualcosa poi ci hanno fatto anche sceneggiati televisivi sullo scandalo della banca romana cioè la banca non esiste più da appunto da 70 anni 80 anni non esisteva più però noi avevamo un metodo proprio molto di verità di fare le cose vere tangibili toccabili non simili praticamente con tutta la forza che puoi dare alla verità alla cosa del riguardo il numero sul papa vuoi dire qualcos'altro? no il numero sul papa no era un numero d'occasione naturalmente la c'è due errori un errore è che siamo usciti due giorni noi dovevamo uscire il martedì della settimana insieme a quando il martedì uscirono tutti i vari chi perché coso con il papa noi siamo usciti due giorni dopo questo e poi c'è un'altra cosa che questo è divertente perché nella penultima pagina c'era il papa che si faceva fare un pompino da Belen così le dico papale papale poi che succede alla notte mi chiamo l'editore dice ma guarda sei sicuro della cosa ma se quella mi denuncia e quell'altra no ci vuole qualcosa di forte di cui era il giornale poi mi commuovo perché in realtà vedete noi al male eramo 20 proprietari del giornale per cui giocavamo e rischiavamo improprio per cui facciamo quello che volevamo mettiamo i soldi falsi io mi sognavo alla fine del male era un numero in cui mettiamo i soldi falsi dentro prima di arrivare in edicola non ci fermava nessuno poi con le rese con il pacchi di soldi falsi campavamo tutta la vita felici e contenti no ma ecco qua ora invece qua il male ha un editore ha una proprietaria no una proprietaria per cui di notte mi la mattina mi sveglio e dico vabbè guarda leviamola è stato un errore perché in realtà in un numero sul papa qualcosa di terribile ci voleva non è che era era proprio nella sua miscela nella sua qualcosa di ah non si era disegnata da Perini peraltro era molto bene proprio fatta scientificamente apposta perché poi ci sono 3000 cose che compongono una miscela di un buon giornale di satira non una di queste cose è mettere una cosa terribile là dentro era anche però lo sapremo tra 20 giorni quanto era venduto un mese questo è un mese di pauro esatto avete nel frattempo altre domande allora entriamo invece al numero che ho là quello nuovo perché voglio fare una cosa all'inizio del numero il secondo solo una cosa perché vi dico perché secondo me un bravo disegnatore vede delle cose che altri non vedono ha una sua come dire noi facciamo come non lo so delle radiografie del tac guardiamo tomografie asciali papà no e ci accorgiamo di cose che gli altri non si accorgono è un mensile per cui deve avere una copertina bella ben disegnata senza una battuta perché una battuta di un mensile poi dopo tre giorni dopo una settimana dopo diventa vecchia e nulla è peggio di una battuta vecchia su una cosa d'attualità vecchia per cui deve avere invece il nome è Bud il male presente a Bud poi forse sarà vai avanti vai alla pagina 3 vai all'editoriale vai avanti ecco qua Palermo via dei Picciotti che è una via vera via dei Picciotti allora io cammino a Palermo vai avanti ancora e mi accordo che vai avanti ecco mi accorgo che devo andare all'amministrazione per Padre Puglisi mi accorgo che camminando c'è una scuola e sopra la scuola c'è quella cosa là rossa ma guarda questo architetto e mi racconta che praticamente un costruttore mafioso costruì con i soldi della provincia una scuola per la provincia poi dopo affittò la scuola alla provincia e sopra la scuola costruì il suo condominio e se lo vendette a tutti i suoi amici mafiosi per tutto questo poi dopo vendette la scuola alla provincia mentre il condominio rimase suo con questa differenza di colore che dice ma com'è che nessuno se ne accorse in vent'anni di questa cosa qua e poi siamo esattamente a 60 70 100 metri da dove morì Padre Puglisi Padre Puglisi cadde e morì vedendo questa cosa qua dove peraltro l'ingresso principale è quello del condominio alla scuola si entra di dietro da un ingresso secondario ora io la cosa che prima è che a Palermo con tutta la cultura antimafia che c'è con tre giornali quattro giornali Repubblica con la Repubblica Palermitana il Corriere del Corriere Palermitano il giornale di Sicilia Live Sicilia e quell'altro no questa cosa qua che è un pugno in un occhio va bene che siamo in un quartiere di periferia però come dire chiunque cammina se ne accorge o no secondo me è così no bene ecco qua secondo me allora il pezzo scritto non è è piombo falso ne facendo il numero di zero si mette piombo falso cioè si mette cioè qua ci sarà un pezzo no non avevo i soldi per mandare due giornalisti su, giù a raccontarmi a scrivermi a fare indagini a capire perché per come perché per dire non sequestrarono mai quella cosa sequestri scuola e condominio l'affidi alla scuola e via il problema è risolto no più mafia di questo più cosa più proprio è una cattiveria per gli otti poi questo proprio vedi c'è il condominio scende proprio il condominio mafioso paf proprio è come un infatti là abbiamo fatto disegnare quell'avvoltoio è un avvoltoio sulla scuola su una scuola con professori veri con gente vera carina anche non e secondo me l'Italia è piena di scandali così che basta guardarli per capirli no e più avanti allora noi abbiamo messo vari servizi nella prima parte la prima parte le prime 30-40 pagine sono tutti servizi o fotografici o disegnati di scandali veri di satira alcuni che abbiamo preso da noi che abbiamo fatto nel male vero per dire vai avanti che vediamo cosa c'è qua è dove morì padre Puglia esattamente dove c'è questa donna qua e il marcipedale dove morì vedete cosa vedeva padre Luisi morendo là vedeva quello là vedeva il condomino dei mafiosi che è una cosa ma non uno cioè quello che la costruì era uno della cupola era uno dei venti che ammazzavano che comandavano cioè non è uno no è uno di quelli là no questa è Palermo e il quartiere Brancaccio è il famoso quartiere Brancaccio va bene andiamo avanti questo qua è la 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 questo è successo ad Aulla in Toscana praticamente quando morirono 4-5 persone ad Aulla durante l'alluvione 3 perché a un certo punto il livello del fiume passò da si alzò prima a 2 metri e poi da 3 minuti a dopo a 8 metri perché perché c'era una diga della Edison e uno a Milano premette un pulsante e alzò le barriere della diga senza avvertire nessuno fece affluire tutta quest'acqua dove ammazzarono 3-4 persone però cioè ancora oggi non c'è un processo contro la Montedis o contro questo qua e se quella notte piove molto sembra una disgrazione non era una disgrazione non era niente no noi siamo stati gli unici questo l'abbiamo messo nel numero del male dell'anno scorso di quando successa questa cosa qua no poi non avevamo la capacità e la cosa di continuare a seguire tutta questa storia però io vorrei fare un giornale che abbia la capacità di seguire seguire sino al processo queste cose qua no cioè questa ancora oggi sono 3-4 morti così di cui ormai tutti sanno cosa è successo e come è impunito completamente perché chi si mette contro la Edison oggi Corriere della Sera Repubblica no assolutamente non è che non vai avanti per vedere Aula tsunami di montagna vai avanti il fluo è magro a 2 metri sopra la merguetta cioè dove ogni pagina c'è un titolo dove ti spiega bene velocemente come una mostra come una serie di manifesti che segui vai avanti il livello di seguito all'improvviso a 8 metri vai avanti ancora a 5 metri si abbattono su Aula vai avanti ancora Milano un tecnico dell'Aenz sono aperto la liga esatto è definita qua no poi allora qui un giornale in cui tu racconti tutto con titoli e disegno e poi dopo chi vuole entra dentro vede capisce si fa un'opinione si fa una cosa questa è la storia della famosa giornalista della RAI la Guerracci la quale c'aveva il suo operatore che è un altro giornalista il quale lo fa andare avanti a filmare una cosa questo film esplode la macchina cade a terra si ferisce si posa sta due mesi in ospedale lei prende per questo servizio un premio e non nomina manco questo povero disgraziato che è stato massacrato per causa sua praticamente no cioè mentre il servizio l'ha fatto lui cioè chi era sulla macchina e chi è caduto a terra e chi è cosata è lui cioè quello che ha visto no allora come dire lui giustamente era incazzatissimo non era valente senti sono arrivato un paio di domande anche da internet sì cioè Viviana Nuvola che chiede pensi che oggi ci sia differenza tra illustrazione sui giornali di carta e quelle che girano online credo che la differenza poi ci dovrebbe essere c'è perché sono due mezzi e due cose diverse no però non cioè sai online c'è il bello del disegno c'è il disegno e poi c'è la luce dietro te lo proietta proprio è una cosa ha dei colori splendidi non è che per cui ha una capacità in più da riuscire a come dire a sviluppare alla grande no nel giornale invece no i colori sono smorti sempre non ho mai visto un disegnatore che ha fatto un bel disegno a colori che quando è uscito stampato hanno detto che cazzo che c'è sempre una perdita grande di una perdita comunque sia e dobbiamo dire che quando facciamo il primo male uno dei costi maggiori era l'acromia che è un costo che oggi non c'è più cioè noi per fare il disegno a colore dovevamo fare spendere non so ci costava quasi quanto la carta facevano 4, 5, 6 lastre diverse ognuno per ogni colore base che poi dopo ricomponevano in tipografia però c'era sempre una perdita di qualcosa mentre invece su internet il colore illuminato proprio è bellissimo però la differenza c'è però poi bisogna ancora siamo all'inizio e non è che poi c'è un'altra domanda ci si può paradossalmente assuefare persino alla satira? ma come dire si assueva cioè allora la satira è uno strumento di racconto è uno strumento di pensiero uno strumento di di tutto per me è come un ritmo poi come dire uno si può annoiare di tutto non è che si può assuefare anche devo dire che io questa è una stupidaggine ma io mi ricordo che tanti anni fa mi disse guarda Andreotti l'ha fatta peggio di più come potrete voi della satira farne quanto ne fa Andreotti vi ha superato ed era cento volte indietro da Berlusconi a tutti gli altri sempre finge che ci superano ma insomma siamo ancora qua non è che Vauro io e Vauro abbiamo cominciato insieme ci siamo litigati insieme ci siamo conosciuti al sale di Pinozac e ci siamo litigati sulla gobba di Andreotti poi siamo amici per la pelle però abbiamo due modi due cose diverse ma come dire Vauro è riuscito a fare quel racconto televisivo un modo una cosa un modo suo nuovo di raccontare la satira che non è né satira disegnata né una via di mezzo di tutto come cosa e via se ci sono domande che provengono da voi pensateci un attimo nel frattempo faccio io una domanda dato che tu hai attraversato un po' un'epoca anche e stai vivendo quest'epoca del giornalismo che è sicuramente molto molto complicata quale pensi che sia la differenza vera tra il lavoro che hai svolto fin negli anni 80-90 è il lavoro che stai svolgendo adesso sia come direttore sia poi nelle dinamiche editoriale più varie di cui ci hai parlato quindi il rapporto con la tipografia il rapporto con la redazione che adesso diventa necessariamente telematico e che ti dà anche la possibilità di avere più collaboratori sparsi per l'Italia quindi qual è l'elemento di cambiamento maggiore che hai notato? Allora siamo in un momento incredibilmente enorme nel senso che noi siamo l'ultimo periodo della carta e il primo e il secondo periodo di internet la carta comincia a non dare più soldi internet ancora non ne dà tanti soldi ora per che cosa io ho insistito sempre tanto sul bello di fare un settimanale di carta e di darlo al distributore perché il distributore ti dava l'anticipo l'anticipo non ne so perché per me a me mi secca chiedere a delle persone di darmi dei disegni e non pagargli cioè a me piace fare un giornale in cui io e tutti quelli che facciamo il giornale ci guadagniamo insieme ma non per guadagnare è un segno della cosa che il giornale che fai funziona no è un segno che poi come dire però è bello cioè il male e gli altri giornali in generale sono riusciti sempre a pagare gli autori a pagarci noi e gli autori noi come gli autori questa è una cosa che sia al male per dire mi ricordo una volta un autore Chino no Chino un altro un altro simile che non si chiamava Chino ma era pure lui un autore sudamericano bravissimo qual era profugo cileno era profugo qua in Italia noi siamo andati a prendere i segni a lui e li abbiamo pagati subito immediatamente lui ci ha mai visto una cosa simile il piacere nostro era pagarsi immediatamente Andrea scappava da Bologna veniva a Roma portava i disegni insieme a tutti gli altri si prendevano i soldi in contemporanea proprio era un ora internet invece ancora non paga o poco paga poco mentre invece in Germania negli Stati Uniti tanti soldi friscono là dentro qua in Italia ancora poco e di meno però arriverà come dalle altre parti ecco noi siamo in questa fase in mezzo da un punto di vista di fare i giornali editoriali che vi dico anche un'altra cosa un giornale di satira online vero come si dovrebbe fare non è stato fatto ancora sono stati fatti prima cosa l'internet ha lunghezza quanta ne vuoi non ha l'obbligo di avere 30, 40, 50 pagine no poi mettere e questo è un disastro perché il limite fa bene alla satira avere pagine limitate fa bene perché perché allora un disegno brutto secondo me ne ammazzano due buoni non è cioè è una è una miscela perfetta quella di un giornale di satira di un equilibrio una cosa di satira un'animazione dura meno di un film perché stanca di più è più facile che stanchi è un giornale di satira online che abbia tutte le capacità tecniche dell'online tutte le capacità sia di animazione sia di non l'hanno non è stato anche perché per farlo servirebbero anche ci vorrebbero molti tecnici bravi molta gente brava in grado di costruire tutti i trucchi di internet io vedo apro la Repubblica e vedo la pubblicità invasiva che mi entra dentro ecco io farei un giornale tutto invasivo tutto che mi aggredisce a tutti i lati in cui io interagisco mi difendo però a tutte le dove il disegno non è là morto come sul giornale sulla pagina il disegno mi urla mi fa mi cosa ecco qua è come un film che dura 10-15 e secondo me per stare alla realtà nel senso per raccontare la giornata di ieri per dire no tra la politica e la non politica tra Bersani a Roma al chiuso in una cosa per la povertà e Berlusconi qua col saluto ci vuole secondo me avere tutta la notte tecnici bravi che lavorano e che fanno e che aggrediscono fanno in cui tu apri indomani questa cosa e ti sconvolge si muove 5-10 minuti che ti sconvolgono non l'ha fatto ancora nessuno spero un giorno di farlo io nel frattempo volevo anche salutare Roberto Laforgia e Paolo Bacilieri che sono lì alzate almeno le mani che oggi pomeriggio cureranno il workshop qui con noi e quindi ne approfittavo anche per chiederti quali sono le caratteristiche che devono avere i fumettisti gli illustratori che lavorano con il male affinché ti colpiscano e lavorino per me devono raccontare qualcosa qualcosa di che ne so insomma qualcosa che non ho visto qualcosa che devono raccontarmi qualcosa è semplice e complicato ecco e allora mai devono fare usare l'uomo comunico mai no la cosa peggiore della satira è tradurre un titolo di Repubblica o del Corriere o del Coso e non è questo è insopportabile devono con intelligenza entrare dentro uno dei per esempio quello racconta dei personaggi qua pugliesi locali che però sono universali in quanto Michelino altri personaggi deliziosi che come dire mi mi colpiscono mi costano mi piace è un bel racconto non è che è come dire in sé è compiuto no vedo ma è stato così che all'inizio del male il suo fratello Pasquale Laporgia era l'editor del quel libro del male è uno con cui per due anni mi sono litigato a morte ma abbiamo fatto un libro bellissimo poi quando prima di iniziare il male lo chiamo sapevo che lui conosceva e lui mi manda un portofoglio con non so 60 70 giovani autori di cui non conoscevo quasi nessuno e dei quali ne prendiamo una decina praticamente qualcuno in più qualcuno in meno ma come dire segni bellissimi che non conoscevamo e che aiutano a fare questo racconto no praticamente poi 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 ci sono quelli vecchi come Scozzeri che corrono a un racconto così bello maturo pieno non lo so poi sai sono tante cose diverse ognuno deve essere diverso dall'altro per dire allora quando facevo il male tante persone venivano tanta gente tanti giovani disegnatori disegnavano come Andrea Pazienza dicevo no guarda Andrea Pazienza già ce l'abbiamo non abbiamo bisogno di gente completamente direto sei bravo perché disegnare come è difficile però come dire sei una storia sbagliata secondo me no e c'è un autore qualche autore a cui sei legato particolarmente o c'è invece oppure un autore che stai cercando ancora che debba avere delle caratteristiche particolari si ha tutte e due le cose allora io tutti quelli con cui ho lavorato sono sono legato proprio moltissimo con tutti i loro difetti le loro cose sono sono tutti irascibili insopportabili non è che però insomma sono molto affetto a tutti da Scozzeri con cui mi litigo sempre per i vini quelli vecchi a quelli nuovi non è che se fanno parte del nostro giornale vuol dire in un modo o nell'altro mi piacciono ci piacciono poi naturalmente siamo in due a dirigere il giornale per cui questa è una complicazione in più nel senso che dobbiamo sopportarci a vicenda abbiamo gusti diversi però insomma più o meno per il grosso ci siamo ci siamo riusciti no ognuno poi con cose diverse non so Gaetano Liberatore perché è capace di disegnarti una persona farti una cosa in un modo che nessuno è capace di raccontarti e di disegnartela altri perché con di recente abbiamo recuperato uno Tom Joston che era un punk inglese allora noi tra le altre malefatte l'avevo fatto noi siamo andati in Inghilterra a fare un falso Times perché c'era il Times e il show però allora c'è andiamo in Inghilterra e facciamo il falso del Times andiamo in Inghilterra mettiamo una redazione che sta un mese là tra le altre cose troviamo un giovane punk che era questo signorato Tom Joston facciamo un Times facciamo un errore grave cioè nel senso che noi i falsi i falsi che facciamo in Italia si chiamavano la Repubblica il Corriere la Gazzetta dello Sport si chiamavano come i giornali perché in Italia la legge non c'è cioè io mi ricordo con la Repubblica militica c'era Scalfari che ci telefonò incazzatissimo cioè vorrei parlare con il direttore sono io ma voi avete fatto non si può fare ma questa è da denuncia stupendo Scalfari ci denuncia successo perché quando ti denunciano e ti sequestrano 25.000 edicole ti sequestrano su 20 30 50 100 delle altre 20.000 vendi alla grande sequestrato il male via se lo compra dappertutto e fa l'esaurito dappertutto non è che era una chiave del successo da questi sequestri che ci facevano poveretti che erano sequestrati la gioia proprio nostra più grande in Inghilterra sono persone serie allora noi dovevamo fare not time un piccolo not qualche trucchetto e non l'abbiamo fatto cioè chi è stato là non l'ha usato non è che lo doveva usare non lo so il time si viene praticamente escono 100 copie e viene 20.000 copie bloccate in tipografia sequestrate in tipografia probabilmente abbiamo speso non so 30 milioni di lire dell'epoca buttati inutilmente completamente no e solo 100 copie andarono in distribuzione perché là sono gli inglesi sono più seri disgraziatamente per loro poi non è che non e però tra tutta questa cosa questo tomo in giostano che abbiamo ritrovato nell'ultimo nel male del papa questo qua che è in edicola questo qua che c'è che c'è un disegno che non c'entrava col papa lui c'è fatto dei disegni sul papa e poi uno che non c'entrava col papa ma era troppo bello e c'era uno che andava a un bancomat della banca della sperma no e pa il il bancomat della banca dello sperma gli sputava addosso ma era una cosa terribile un'immagine agghiacciante che come uno quel umorismo che uno lo guarda da solo e c'era e questo è il bello del del disegno è che è come l'inglese è una lingua universale è una lingua universale che a volte senza nessuna parola senza niente lo capiscono in tutto il mondo infatti come dire è bellissimo riuscire a fare un giornale europeo senza traduzioni proprio solo di immagini che parano a sole stupendo a vendere in tutta Europa c'è un'altra domanda che arriva da twitter è molto semplice molto diretta oggi un giornale può prescindere dalle illustrazioni satiriche assolutamente no cioè totalmente no cioè solo che allora andate vediamo i libri di storia di oggi i libri di storia di oggi il seicento il settecento l'ottocento sono raccontati per la maggior parte con immagini di satira Napoleone con la testa a pera quell'altro così cioè le immagini di satira dell'ottocento anno fa sono raccontate le fotografie della storia di oggi io penso che secondo me tra cinquant'anni raccontare la storia non puoi prescindere dalle immagini di storia che raccontano alcune immagini di satira che le raccontano paff immediatamente senza cosa che una foto non può la foto è fredda tante volte difficilmente sono foto così calda ecco il racconto di satira assolutamente è molto più caldo no è una durata più lunga secondo me come dire poi vuoi fare un giornale senza un disegno non puoi farlo non è che cioè come dire però fai un errore grave secondo me nel frattempo ci sono delle domande se no continuo io ci sono delle domande stavamo parlando poi ieri in macchina di quelle che sono le prospettive nuove del male che comunque si pone anche il tema del digitale del web della diffusione quindi quali sono le ricette allora nella mia idea è questa qua tu fai un mensile di 100 pagine due o tre settimanali di invece di 26 pagine cioè formato comic americano che non arriva alle 30 pagine secondo me no così che fai in un giorno in un giorno allora in un mese hai tre volte da un euro due euro questo giornale di 30 pagine è una volta al mese che dura un mese uno di tre euro che dura 80-90 pagine poi in contemporanea hai un web nel quale però il bello sarebbe questo hai già una redazione impiantata di 10 persone e allora intervenire sul web ogni giorno con la redazione con ta 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 e con ogni settimana esce insieme al giornale esce l'application una cosa tiene l'altra in un certo senso no non è tutte cinque tutte sei poi naturalmente con gli albi degli autori con le magliette con le cose con tutto quello che tutto vanno a fare l'attivo del giornale di satira che paga tutti gli autori che girano intorno questa è la mia idea no solo che è difficile trovare un editore che ci creda sino in fondo hai parlato anche di possibili applicazioni per quella è anche una strada percorribile l'applicazione è una strada stupenda perché poi però non è che cioè è chiaro che è il metodo più veloce allora riuscendo a fare applicazioni in un giorno in due giorni no questa è la cosa tutto tutto è la velocità no chiaro cioè esce una cosa tac in un giorno due giorni poi o sai la capacità di produrre l'applicazione la serie di battute la cosa immediatamente no o se no vieni dietro o se no facebook è più veloce di te facebook è un enorme il guaio di facebook che è come dire è che non ha limiti per cui hai pieno di disegni tre quarti di schifezze e una piccola parte di disegni validissimi bellini solo che ecco qua c'è questo galleggiare il giornale invece seleziona prende aggruppa una piccola cosa poi te la o te la regala o te la rende con l'applicazione immediatamente e quello che era il falso del quotidiano che avveniva nell'edicola cioè uno si avvicinava all'edicola vedeva l'edicolante che giocava con noi l'edicolante di 30 anni fa era uno che ci amava moltissimo e che quando usciva il falso proprio lo metteva e quindi la gente si comprava il giornale falso il giornale vero tutti e due mi ricordo questa sera chiamava per favore la prossima volta ditecelo che fate il falso così aumentiamo la tiratura andavano esauriti sempre i giornali loro non ci denunciavano perché loro conveniva non ci denunciavano perché Tognazzi andava esaurito poi se sera poi andavano esauriti pure noi ma prima loro andavano compravano ma non è questo allora è quell'altro e dico l'antel per cui vendeva due copie ci guadagnava pure lui guadagnavamo tutti ecco in questo gioco qua che poi la gente se lo portava in ufficio e lo faceva vedere o se lo metteva in tram e guardava la faccia e stupore che facevano gli altri ora la stessa cosa la devi fare con internet e la puoi fare solo con le applicazioni secondo me vi ho detto quasi tutto sapete quasi tutto ma appunto la velocizzazione dell'informazione ha comportato anche una modifica nel lavoro che tu svolgi e quanto è penalizzante il fatto di dover correre dietro la notizia ad una velocità che fino a qualche anno fa era impensabile ma sai non è cambiato molto ma non lo so perché poi cioè non lo so allora io lavoravo il pomeriggio andavo sul bancone però domani mattina era sul giornale ecco non è che poi c'era tutto questo il bello di lavorare in un quotidiano non è questo che fai un errore una stupidaggine una cosa bella oggi e domani ne fai un'altra no ogni giorno il quotidiano è bello perché io mi ricordo il piacere con cui di notte andavo in edicola a prendere il Corriere della Sera con il mio disegno uscito la soddisfazione che mi dava questa cosa qua no mi era io c'è come alle sette e mezza otto del pomeriggio era a casa mia l'ho mandato per fax e a mezzanotte è qua sul Corriere a Roma stampato a Roma no mi rimanevo meravigliato però erano già tempi stretti in un certo senso no come cose come in internet sono ancora più stretti naturalmente fai un disegno mezz'ora dopo un'ora dopo già ho le prime reazioni i cosi quell'altro non è più veloce tutto però è come dire è quello che è così insomma non lavori un mensile lentissimo è terribile parlavamo stamattina anche del del fatto che le edicole stanno chiudendo le edicole hanno rappresentato per tantissimi anni un elemento importante poi nell'interazione col lettore è un disastro che a cui nessuno fa caso allora a Roma e a Palermo a Roma stanno chiudendo centinaia di edicole a Palermo altrettante e quando muore un'edicola muore per un quartiere la cultura muore il posto dove la gente va a comprare i giornali settimanali i mensili dove cioè quasi qua secondo me l'edicola è più importante di una libreria quando chiude una libreria facciamo appelli cose ah verrà un negozio di jeans quando chiude un'edicola però oggi come oggi però è nel silenzio soprattutto nel silenzio degli editori quali sono così sciocchi da non capire che l'edicola è il loro agente sul territorio ma siccome metà degli editori sono bancari non sono i banchieri non sono editori di editori cioè non è che c'è il signor Rizzoli che si è fatto i soldi vendendo giornali nell'edicole stampandoseli lui e capendo quindi quanto è importante l'edicole non è il signor Mondo ma sono altra gente gente che non ha mai capito questa cosa qua non ha mai capito che se l'edicolante ti mette bene tu puoi vendere qualche copia se l'edicolante ti mette dentro come dice l'edicolante è quello che per un negozio quelli di jeans sanno capire l'importanza che ha il negoziante per loro i venditori di magliette di jeans i venditori di giornali no sono molto più sciocchi e però questa cosa qua è di una grazia perché allora loro vendono già il 40-50% dei quotidiani in meno perché un 20% lo vendono via internet i giornali un 15-20% e l'altro perché proprio i giovani non comprano più quotidiani no perché c'è la crisi e tante altre cose questo è un disastro di proporzioni in mai io fossi governo darei un contributo all'edicole non all'edico perché poi gli edicolanti non è che cioè sono gente che ha perso un vecchio edicolante si vendeva l'edicole e aveva la sua pensione in parte così aveva la sua buon'uscita oggi le edicole non valgono niente non ha più niente ma stando così lo stato delle cose quanti anni pensi che possano ancora reggere le edicole quanti anni pensi che possa ancora reggere il business del diciamo dell'editoria cartacea satirica spero quanto vivo siccome non lo so e non lo so perché tutto va di una velocità incredibile non oddio un anno fa due anni fa hanno detto tra poco vedrete l'ultimo New York su carta no invece ancora c'è su carta per cui come dire non lo so non tanto ecco però insomma ci attrezziamo non è che e noi abbiamo parlato dall'altro ieri i miei disegni escono con Lettera 43 che è un quotidiano online no le cose insomma cerco di attrezzarmi ma insomma è un disastro ma noi abbiamo parlato molto c'era un'epoca meravigliosa in cui io per raccontare il mio lavoro per spiegarlo ad un altro dicevo ma che lavoro fai se tu hai presente Forattini ecco qualcosa esiglio che Forattini prendeva contratti se si faceva pagare 500 milioni dalla stampa e riusciva a mettere Spadolini con la ninchia di fuori sulla stampa non è che è una cosa che provateci voi a mettere sul Corriere della Serie o sul Repubblica uno con l'uccellino di fuori non è facile e lui c'era l'avvocato poi muore l'avvocato la prima cosa che fanno è lo mandano via noi comunque abbiamo parlato in questi giorni tanto di digitalizzazione e quindi anche di spazi che si restringono e quindi che ne so l'Inghilterra la Francia piuttosto che gli Stati Uniti diventano molto più vicini ma questo può essere anche per la satira una possibilità come dire di ampliarsi di arrivare più lontano o è molto contingente perché la satira è molto legata al territorio sì e no aspetta uno ci sono tantissimi autori nuovi che pubblicano solo su internet internet è un posto dove tantissimo prima se tu disegnavi e non c'era nessun giornale che ti pubblicava come dire poi dopo ti stufavi in tante volte qua invece no te la metti sulla tua cosa di facebook e in parte qualcuno dice mi piace in parte già sei soddisfatto no e poi tra questi se ne scoprono qualcuno veramente bravo non è che assolutamente poi c'è peraltro ci sono tante cose di censura nuove io ho visto non so ieri vedevo che la posta di Firenze ha censurato quella cosa là sul Papa non so la polizia postale non so dove cose che in generale prima avevamo bisogno del magistrato del coso ora lo fanno più automaticamente no però è tutta una lotta in corso è una una bella come dire una frontiera aperta al quale si si lavora la domanda qual era la domanda era se diciamo il fatto che le altre nazioni siano più vicine può essere anche un mercato per esempio da avvicinare sì questo potrebbe anche essere noi l'anno due anni fa con Vauro abbiamo pure fatto il male cabaret praticamente una cosa di cinque minuti di vignette che si muovevano tutte in animazioni era uno spettacolino di quattro vignette con un'animazione molto molto ruvida molto come dire non di quelle precise perfette perché lo facciamo in un giorno in due giorni e l'abbiamo avuto anche l'abbiamo messa su Rai 4 proprio sono andate pure in televisione questa cosa qua d'altro canto il New Yorker le vignette del New Yorker le guardie si animano e si muovono infatti l'applicazione che noi stiamo lavorando è un'applicazione in cui il male la maggior parte delle sue cose si muovono giocano cose non sono ancora il giornale di satira con tutti gli strumenti che ti può dare la tecnica no però insomma si avvicinano ogni tanto parte io farei le ultime domande e spero che voi ne vogliate fare anche un paio e volevo chiederti quanto ha contato poi per la la promozione e la diffusione del nuovo male la collaborazione con Santoro e con lo spazio televisivo cioè vi ha dato trovi che la televisione possa essere anche una spinta secondo me no allora aspetta allora secondo me no ma però non è che allora secondo me magari sta contando di più lo spazio che ci dà il fatto che ci dà delle mascette pubblicità e cose perché sono strumenti diversi e allora Vauro quando finisce Santoro ha il picco degli ascolti però quando Vauro dice comprate il male non è che il 200 milione i 5 milioni non è che c'è una no sono due due mezzi due strumenti diversi che non si come dire che non danno un frutto probabilmente se uno va a una trasmissione magari ha più successo sembra una parte del racconto di Vauro che non è che automaticamente uno va a comprare il male con la copertina disegnata da Vauro questo automatismo disgraziatamente non c'è non come cosa però non è come dire cioè secondo me un giornale di Satya deve riuscire a fare parlare di sé e noi ci siamo riusciti tante volte al di fuori delle marchette o dell'amico della cosa fa parlare di sé perché fa delle cose che obiettivamente non puoi non parlarne in un modo o nell'altro no e anche con questo male qua siamo riusciti a fare delle cose una volta abbiamo fatto tre numeri in contemporanea quando abbiamo fatto si chiama il male povero quando abbiamo fatto un numero di un falso che c'era Monti alla Cina andate a rubare no ed era proprio il titolo di questo giornale qua andate a rubare che era un bel titolo molti se l'appesero in molti bari ma l'appeso era bello andate a rubare e un altro c'era un male normale e un maledizione povera che era lo stesso con meno pagine e con la carta in bianco e nero no praticamente invece di un numero ne abbiamo venduti tre invece di 10.000 copie è venuto 30.000 copie cioè non un grande successo non era una presa in giro ai nostri cosi ogni tanto mando anche qualche immagine questa è la maglietta torna indietro quella è la bellissima maglietta la Monti Cazzi ecco qua questa maglietta qual è questo? noi abbiamo pensato questa maglietta l'abbiamo fatta praticamente ai primi d'ottobre il 10 ottobre no l'editore no buono praticamente noi la stampiamo ai primi di dicembre la facciamo in 10.000 copie quando non c'era più il governo Berlusconi ti rendi conto cioè no e per cui praticamente poi ne abbiamo vendute anche là 2.000 per cui è andata in attivo pure però è come una cosa se veniva venduta esattamente quando ancora c'era Berlusconi che è una maglietta stupenda peraltro basta figa piovono cazzi tanti cazzetti della Berlusconi nel cuore di coperti ma è molto carina in alta risoluzione non è una non è proprio poi io volevo chiederti questo come il tempismo il tempo è tutto in tante operazioni di Satira il tempo è tutto proprio un minuto dopo un minuto prima è il successo o la sconfitta di un'operazione volevo chiederti se ci sono degli esempi in Italia e all'estero che ti convincono sulla Satira oggi cioè ci sono dei colleghi che stimi che trovi stiano facendo delle cose belle c'è qualcuno in Italia e c'è qualcuno all'estero all'estero tanti all'estero tanti molti in Italia fuori da Grillo che ha fatto una grandissima operazione incredibile di cose infatti io ho proposto a Paolo di presentarsi il sindaco di Roma perché solo la buona Satira può sconfiggere la cattiva come dicono le cose però all'estero ce ne sono tantissimi nel senso che al di là di Willem o di tanti disegnatori francesi io studiavo architettura poi studiando architettura vedo i disegnatori francesi cioè l'architettura che disegnavo vedo Reiser Willem Volischi e tanti altri che mi raccontavano il mondo tutto ma le cose sia le cose private che le cose politiche con una scioltezza facilità e dico cavolo con il disegno si può raccontare tutto insomma è là che mi sono molto legato a questo poi va bene mi piace moltissimo in America ogni giornale c'è il suo disegnatore ma c'è i disegnatori molto bravi non è che tutto il mondo in Italia siamo più scarsolini diventati ultimamente non come però devo dire in Italia fuori dal cioè mancava Bucchi però Bucchi ce l'ho in questo numero papale c'è sì qualcuno che mi piacerebbe avere ma anche qualcuno che per ora non disegna più già come cosa ma qualcuno che disegna e che non abbiamo nel nostro coso non lo so no in Italia no fuori sì tantissimi fuori d'altro canto vedi in Francia ci sono tre giornali di satira settimanali il canale del scenè Charles Bidot e quello di coso il cinè cinè che ora prima era settimanale poi è diventato mensile cinè che è un attore più grande di 15 anni di me all'età di Pinozac che è un grandissimo autore però Calard vende 200.000 300.000 copie Charles Bidot ne vende 50.000 cinè 30.000 per cui in Francia fai un libro di disegni di cose di storie di cose vendi dieci volte quello che vende in Italia qualsiasi autore italiano va in Francia e vende un casino mentre in Italia vende molto di meno poi c'è una domanda che arriva da Twitter abbiamo parlato ieri con Neil Shea del fatto che molto spesso un occhio esterno perché lui fa molti reportage un occhio esterno quindi magari di uno stato intenso in una terra straniera può raccontare tanto e allora domanda Claudio la satira estera sui fatti di casa nostra ha il vantaggio di un punto di vista esterno diverso da provare a inseguire devo dirti che potrebbe averlo teoricamente lo dovrebbe avere però poi in realtà si in realtà secondo cioè se venisse qua il disegnatore mi raccontasse l'Italia percorrendola guardandola ok sicuramente sì mi darebbe moltissimo come a volte è anche successo se invece da fuori mi da fuori mi hanno raccontato Berlusconi come abbiamo raccontato noi Berlusconi più o meno né più né meno ecco non mi hanno detto cose nuove hanno raccontato anche in modo perché sono disegnatori brevissimi con colori meravigliosi però come dire non mi hanno fatto un salto qualitativo sulla nostra politica come politica no come cosa ma questo è così insomma teoricamente può succedere però se venissero qua se mi raccontavano come facevano Goethe arriva si percorre l'Italia non me la racconta come i grandi viaggiatori raccontavano venendo allora sicuramente sì perché quando ti faccio vedere quella scuola di Palermo io cammino là vedo cioè uno viene da fuori guarda una cosa una cosa che quelli che stanno là non li ha colpiti a lui li colpisce e assolutamente racconta e fa una cosa nuova come cosa se mi legge i titoli dei giornali fatti dai corrispondenti locali che lavorano là mi aggiunge al racconto sul politico nostro non mi come dire poi mi concedo solo una domanda un po' più politica sono anni che la satire in generale in Italia non il male si nutre di Berlusconi e allo stesso tempo Berlusconi è stato capacissimo si nutre di più di lui appunto quanto può andare avanti questa cosa ancora ha già superato tutti i limiti dell'età di tutto della cosa quanto è cioè quanto quanto da altre parti non abbiamo fatto non abbiamo non si sono usciti fuori politici credibili e cose che si sono levati di mezzo questo muscerino in realtà non è che è un come dire no fortunatamente ora tra Renzi tra Grillo tra Coe e quell'altro c'è da ridere ma no che c'è da ridere c'è da come dire il problema è questo Berlusconi c'è perché non c'è stato nessuno più credibile più coi che non ci voleva assolutamente nulla no né a destra né al centro né a sinistra a costruire a vedere a politici più più credibili di questi qua perché poi siamo un'Italia dove al di là della politica no al di là della politica come l'Italia ha dei grandi scandali per dire c'è una costante negli ultimi sei mesi un anno che è questa Monte dei Paschi Anton Veneta io mi compro una cosa che vale 606 miliardi una cosa che vale 3 miliardi ma la compro per 6 miliardi per 8 miliardi e naturalmente quei 3-4 miliardi in mezzo me li smezzo tra i miei amici cioè il trucco per fare i soldi è questo è comprarsi una cosa che vale la metà al doppio nello stesso modo il Corriere della Sera si compra la Recoletas è un'azienda tipo di giornali di media spagnola che valeva 600 milioni se la compra per 900 milioni acquisto rifiutato dal precedente amministratore del Corriere della Sera è invece fatto da un nuovo amministratore che è quello messo là da Montezemolo e praticamente fanno una disgrazia dal Corriere della Sera però in mezzo ci sono 2-300 milioni di euro che finiscono spariscono in mezzo tra le stesse persone la stessa Banca Spagnola Santander le stesse del Monte dei Paschi e quasi quasi gli stessi di quando la provincia di Milano si compra un'autostrada che già aveva la maggioranza un'autostrada che Gavio prima si era comprato per 300 milioni se la compra per 800 per il doppio per il triplo ecco qua noi siamo in un'Italia in cui la stessa operazione è avvenuta tre volte negli ultimi anni senza che come dire c'è solo quell'inizio di processo ma non su questo a Milano quell'inizio di processo sull'autostrada ma non proprio sull'autostrada è più su tutti i scandali di Sesto San Giovanni non proprio sull'autostrada come cosa è un'Italia dove tutto questo avviene è sempre avvenuto non cioè avveniva anche 50 anni fa cioè il modo vero reale con cui si passavano i soldi era questo era comprarsi al doppio al triplo una cosa che va al doppio al triplo e poi dividersi le questioni le cose naturalmente poi come dire il Monte dei Paschi diciamo al primo persona che è caduta alla finestra non è che ce ne saranno altri siamo dentro un giallo che è bellissimo da raccontare da vederlo e da avere la capacità di raccontarlo avere il posto dove raccontarlo poi bene ci sono delle domande sì tre domande bellissime che bene la rissa chi domanda prima no ti spiego come satira di giornali e satira di segnata no cioè nel senso a noi qualche volta per dire ci sequestravano per vilipendio al papa più che altro ma non c'era nessun politico che si azzardava a denunciarci ma nemmeno ora eh è l'unico che ci provò un attimo però non come giornale perché i giornali satira no non ci provano ad attaccarlo perché come dire sanno che vado a mettere le mani gli ultimi fu D'Alema che denunciò Forattini o copertine o di panorama o di segni apparsi su panorama o su ma poi dopo capì che non era il caso però lai andarono bene perché denuncia panorama e si acchiappa 300-400 milioni di lire no da panorama no non come intimidazione ma comunque noi personalmente come dottori di satira no io l'ultima che ho avuto qualche anno fa il papa per un gioco per boxer mi sembra boxer a Civitavecchia Civitavecchia è un'associazione di genitori mi denuncia per il vilpendio al papa arriva a Civitavecchia il mio avvocato fortunatamente non viene e là c'è un avvocato di ufficio il quale è un ragazzo intelligente il quale dice ah ho un nome non lo faccio di cosa bene ci chiediamo subito di camminare a testimoniare il papa e in quanto persona quello magistrato aspetti un attimo si riesce in camera di consiglio tutto prosciolto finito tutto col pensiero che a Civitavecchia chiamavano il papa a testimoniare sulla vignetta che c'era il papa disegnato da Vauro diretto da me che c'era il papa con la gonna alzata di Maramarino in Morroe che non so che cosa diceva che faceva dice guardi fu di un'intelligenza questo qua incredibile bravissimo proprio con vedi gli editori avevano un terrore di questa cosa allora pensa che avevano così terrore che avevano incaricato un avvocato che ci leggeva il giornale prima il giornale prima di stamparlo dovevano mandarlo all'avvocato il quale ci mandava ogni volta quattro pagine a pagina in tre noi lo prendevamo pra pra via pra via proprio era tra me e Vauro il caporedattore era proprio le prime due volte poi non l'abbiamo più letto assolutamente non ci volevamo fare influenzare dalle stupidaggini che diceva tutte le cose terribili ne ha denunciato nessuno ma gli editori hanno spesso davano più soldi all'avvocato che a noi infatti tra le mie cose sono in cazzatura per questo perché il presidente gli hanno dato 50 mila euro con questi 50 mila euro il giornale era inattivo senza questi soldi sprecati perché un giornale di satira non lo denuncia in generale non è così facile a denunciare uno si mette io metto a denunciare un giornale di satira madonna mia 30 autori tutti contro di me uno sprovveduto denuncia il giornale di satira ha una sua forza anche come dire è un nido di vespe obiettivamente un autore solo o no infatti io per dire io su una vignetta sul web che l'ho fatta poi me ne sono pentito subito l'ho ritirata paff quello in quei 10 minuti che era andato là nel mio coso quella l'ha visto e mi ha denunciato e ora questa è l'ex fidanzata di Pietro annaggia una mattina mi sono svegliato male poi ho detto no levala subito e paff come cavolo ha fatto non l'ho mai capito questa qua va bene sì 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 assolutamente sì esattamente detto e questa è una ragione in Francia c'è una valutazione una cosa una stima una proprio musei festival librerie specializzate tutto con un sistema Francia disegno e quella è totalmente e completamente diverso molto qua noi siamo editoria popolare no proprio che non è che per me Pulpo è bellissimo non è che ci sono altre domande no va bene allora io ringrazierei con un applauso Vincino insomma credo che sia stato un affresco di quello che è successo nella satira negli ultimi anni e penso che non ci fosse un'altra persona che potesse insomma essere al posto di Vincino qui stamattina io vi ringrazio veramente per essere venuti perché mi rendo conto che la domenica mattina fare un incontro sull'editoria forse non è la prima cosa a cui voi pensiate e quindi vi prego e vi esorto a venire anche oggi pomeriggio dove ci sarà un'interazione ancora maggiore perché ci sarà proprio un vero e proprio workshop insieme a Roberto Laforge e Paolo Bacilieri a oggi pomeriggio alle 15 grazie grazie a tutti